La zanzara Tutto il resto è gioia No, non ho detto gioia Ragazzi, aprite gli occhi L'Italia è andata al bacello Questi scopperanno una guerra e ci porteranno anche in guerra Già ci hanno portato alla fame e alla miseria Ascoltate quello che vi dice Movimento Italia Ascoltatelo Io mi sto battendo per voi Per quelle persone anziane Che pigerò due, trecento, quattrocento euro al mese Io li porterò a un milione e mezzo di lire Perché noi torneremo alla lira La lira è la nostra salvezza Italia è la salvezza Se avevate votato il Movimento Italia A quest'ora eravate ricchi Stavate puliti Nelle vostre case Potevate lasciare le chiavi vicino alla porta Giorgia Senti, io sono dei fratelli d'Italia Io ti dico una cosa Io sono Giorgia Io sono una donna È finita la pace Io fermo gli sbarchi Io fermo tutti quanti Questi cazzo di pere che vuole fare No, non ha fatto un cazzo Di niente Io sono dei fratelli d'Italia Sono rimasto deluso Mi faremo entrare con il passaporto E visita medica L'Italia deve essere Italia Lavoro ce n'è Io farei un TSO a costo È meglio essere solo Non accompagnate Allora ragazzi A me fanno ridere questi di ultima degenerazione Lo sapete Sono un po' fissato con questi ragazzi Questi gruppi organizzati di persone Che vanno a imbrattare i monumenti Vanno a occupare le strade Eccetera eccetera Questi signori di ultima degenerazione Di ultima degenerazione Adesso frignano Adesso frignano Prima si organizzano Si organizzano per imbrattare Per andare nei musei In una piccola escalation Ancora troppo poco però Troppo poco Dovrebbero fare di più Se il pianeta è in pericolo E se moriremo tutti Invece no Per adesso Si fermano ai monumenti Si fermano all'imbrattamento Eccetera eccetera Questi qua sono stati indagati Per associazione a delinquere Per associazione a delinquere E qual è il problema Tutti scandalizzati No è eccessivo No ma chissà I veri criminali sono altri Certo lo sappiamo che non è la mafia Lo sappiamo benissimo Sono ospiti negli studi televisivi Una volta i mafiosi Non andavano negli studi televisivi Pare vi detto Non ci sono mai andati Tranne in rarissime occasioni Forse recentemente Ex mafiosi Vanno negli studi televisivi Ma insomma questi qua Se uno si organizza Per andare a imbrattare È associazione a delinquere Non è l'associazione a delinquere Di stampo È un'associazione a delinquere E adesso frignano Cercano nelle raccolte di fondi I soldi per gli avvocati Cercano i soldi per gli avvocati Prima sono bastonati Ma tanto questi qua Non pagheranno niente Lo sapete quanto costa Rimettere in piedi O comunque rimettere in sesto Il monumento a Milano Circa due trecentomila euro Che pagassero fino all'ultimo euro Di tasca loro Porca puttana Altra cosa Leggo su molti quotidiani Delle ricostruzioni Che riguardano nuove tendenze Ma amici miei Sarebbe stato sufficiente Ascoltare questa disgraziata Trasmissione Leggo sul fatto quotidiano E altrove Mio marito mi ha chiesto Di aprire il nostro matrimonio Al sesso con altri La monogamia Dice andava bene Quando si moriva giovani Il che è abbastanza vero Se tu ci pensi La monogamia una volta Andava bene Quando l'aspettativa di vita Era di un certo tipo Adesso non c'è più Ma ragazzi Ma noi è 15 anni 10 anni Che parliamo del fatto Che non si può essere monogami Adesso lo scoprite Lo scoprite adesso Con l'internet Sui giornali Parlate di monogamia In questa trasmissione Da 10 anni Si dà una fotografia Dell'Italia Delle persone Che non sono monogame Che la monogamia È una follia Veritiera La fotografia Che che ne dica Parenzo Che chiamo in causa Da Roma Buongiorno Buonasera Eccoci qui Infatti Benvenuti 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 Infatti Questa trasmissione Semina E distrugge Un paese Che è stato costruito Nel corso degli anni Dai nostri nonni Che hanno scritto La Costituzione Che hanno fatto la resistenza Che hanno costruito Grande industrie E poi è arrivato lui 10-12 anni fa Con una trasmissione radiofonica Inizialmente clandestina Poi via via Sempre di più grande successo E siamo arrivati a questo Alla distruzione del paese A quale distruzione Questo è quello che ha fatto Ma la notizia del giorno È un'altra Perché Come vi dicevo ormai da mesi Sta cambiando il clima E Udine È una di quelle città Che lo sta dimostrando Torna Udine Torna Udine Udine Il centro-sinistra È un fatto Non è Io non è che sia felice O meno È un cronaca Stai esultando Mi hai detto Arriva la Schlein Perché ha vinto Udine Con il dottor Detoni Strappa Che io non so neanche chi sia Lo scopo adesso Il dottor Detoni Strappa il comune Al centro-destra Allora questa è la notizia del giorno Che Cruciani Vi ha voluto nascondere Perché ve l'ha voluto nascondere Perché Cruciani da Milano Riesce a controllare Le telefonate che arrivano E a selezionare i messaggi Ma non può selezionare Questa marea di verità Che vista voi a Milano Redattori della Zanzara Vi sta sommergendo E la verità sta arrivando Perché non potete alterare Le telefonate I messaggini Potete sì selezionarli Potete creare Delle false notizie Potete creare questo clima In cui sembra che ci sia Un'emergenza a Rom Non sei il solo a farlo Debo dire Debo dire L'emergenza a Rom Da giorni A guardare alcune televisioni Sembra che il tema centrale Siano queste borseggiatrici Delle metropolitane Che io dico benvengano Benvengano No come benvengano Sì paradossalmente Perché così possiamo testare L'efficienza e l'efficacia Dei nostri sistemi di polizia Potremmo vederla anche così Perché soltanto con il furto Noi riusciamo a capire Quanto è efficace Il sistema messo in atto Dal dottor Piantedosi Che saluto e ringrazio Nel corso della trasmissione Ci collegheremo in diretta Con un campo nomadi Con il dottor Bambalau Che ha delle clamorose novità Da dirci Bambalau in questi giorni L'ho sentito un po' claudicante Ma poi forse Ma è lì pronto a combattere Dottor Bambalau Ha una grande proposta politica Che questa sera Noi da qui Quando l'hai sentito? Quando l'hai sentito? Nel corso della Io tengo costanti rapporti Con il dottor Bambalau Per capire qual è la situazione Per testare Io sì mi immergo Laddove c'è conflitto Laddove c'è povertà Laddove c'è miseria Nel weekend hai sentito Bambalau Questa è la notizia Io nel weekend Sono stato a stretto contatto Con il dottor Bambalau Mi ha promesso che tra poco Si collegherà con noi in diretta Qui alla Zanzara Trasmissione che lui detesta Giustamente La ritiene una trasmissione Che corrompe i costumi La ritiene una trasmissione Che non rappresenta Lui Lui Il capo del campo Roma La barbuta Dice che non rappresenta Sì certo Dice che non rappresenta a pieno Quello che è il tratto nazionale Di questo paese Mi ha detto così Non rappresenta a pieno Ho usato queste parole Il tratto di questo paese Un paese disponibile Allora Ho capito benissimo Voglio farti ascoltare In apertura di questa trasmissione Un personaggio Che non facciamo mai ascoltare Il professor Montanari Il nuovo sindaco di Udine Intervista il nuovo sindaco di Udine Chiamiamolo il sindaco di Udine Ma non ci penso nemmeno lontanamente La rottura di cazzo fondamentale Hai detto Torna Udine Torna Udine Perdonerò la tua ingenuità Schlein Torna Udine Torna Udine La tua vita è fatta di semplicità Eh sì Torna Udine Torna Udine Schlein Un impiego Torna Udine Torna Udine Perché ridete così Su Udine La vittoria è sempre qui Che aspetta voi Grazie regia Grazie regia Il professor Montanari Dice che Ultima generazione Non rappresenta un pericolo Ma il cambio climatico Sì Una puttanata Inaudita Io sono Posso dire una cosa Io posso dire Te la dico tutta fino in fondo Posso dire Un espediente elettorico Lo dico apertamente Io sono negazionista Del cambiamento climatico Te lo posso dire in maniera chiara È brutto È molto brutto Te lo posso dire o no È molto brutto Oltre che fottermene totalmente Bruttissimo Nego il cambiamento climatico Sono un allievo Del professor Prodi E sono allievo Non dire la parola Prodi E sono un allievo Del professor Franco Battaglia Il mitologico professor Franco Battaglia Te lo chiamo stasera Professor Battaglia Te lo chiamo E ti faccio sputtanare Da professor Battaglia Io non ne posso più Del cambiamento climatico Mi hanno rotto i coglioni Sei l'unico al mondo Io sono un allievo Del professor Battaglia Tu non sei allievo di nessuno Un discepolo Dell'ignoranza E dei ghiacci Che si sciolgono E che spero Che ti portino via Ma me ne sbatto il cazzo Quella catapecchia che hai In Abruzzo Ti devono portare via Quella catapecchia in Umbria Scusami Non ci sono gli acciai in Umbria Ma non ci sono gli acciai in Umbria Io spero che il cambiamento climatico Ma non ci sono gli acciai Ti porti via Quella catapecchia Che hai in Umbria Quella catapecchia in Umbria Quella catapecchia Catapecchia non è Spero che sprofondi per le piogge acide Per il cambiamento climatico Che si affossi tutto quel misero capitale che hai Posso dire Ma misero un cazzo Posso dirti Sinceramente la cosa Io Il cambiamento Io non ne posso più Io sono un allievo Un discepolo Del professor Franco Battaglia Del professor Franco Prodi Del professor Franco Prodi Che ne sanno molto più di te Di questi quattro stronzi Non Montanari Mi riferisco Ultima degenerazione Montanari dice Che il problema è il cambiamento climatico Vai Montanari Nel 2050 I scienziati ci dicono Che Roma Avrà la temperatura di Marrakesh Il pericolo per il patrimonio Culturale Non è la vermice lavabile È il cambio climatico Che farà tracollare Natura e patrimonio Il problema non sono questi E chi paga i danni Chi paga i danni Chi paga i danni A Milano Chi paga i danni Pare che ci vogliono 200 mila Li tira fuori lei Professor Montanari Chi li tira fuori i quattrini Per i danni ridicoli Di una manifestazione ridicola a Milano Chi caccia i soldi Esatto bravo Chi caccia i soldi Allora qui c'è anche Un altro a questa apparenza Dice io voglio distogliere L'attenzione dei problemi del governo Ma il governo non ha problemi Il governo naviga Come deve navigare Come naviga Cioè naviga in maniera normale In maniera normale Tranquilla Senza problemi parlamentari Anche troppo piano naviga Va anche piano Diciamo Va anche piano Va anche piano Troppo piano Allora ragazzi L'orso So che non ne volete parlare Però io sono stato invitato Ieri sera A una commissione Del professor Brindisi Del dottor Brindisi Dove c'erano ospiti I genitori Parenti del ragazzo morto Mentre faceva Mentre faceva una corsa Ora io Chiaramente rispetto i genitori I genitori possono dire Fare quello che vogliono Come sempre Dopodiché la madre dice Che non vuole L'abbattimento dell'orsa Benissimo Teniamo conto Anche del parere della madre L'augusto parere della madre Che è chiaramente Un parere che conta Però non può influire Sulla decisione Dell'organo politico Come direbbe Parenzo No Perché altrimenti Sarebbe come quando Un gioielliere I parenti di uno morto Dice bisogna Uccidere i ladri E tu dici Giustamente I parenti la pensano In un modo Ma poi i politici La politica ragioni In un altro modo La giustizia Ragioni in un altro modo Comunque La signora Franca Dice che l'orso Non deve essere abbattuto Lei vuole che sia abbattuto? No No Perché non mi dà indietro Mio figlio L'orso Il suo battimento Non mi dà indietro Il suo Mio figlio Vabbè Questo sai Questo è questo Questo è chiaro Che non Suo figlio Non glielo ridanno indietro Questo è abbastanza chiaro Comunque Ancora una volta Ieri sera Cerno Tommaso Cerno C'è la Brambilla È più scontato Una persona razionale Di solito Una persona Con una certa razionalità Eccetera Le parti Prendono le parti Io impazzisco Chi prende le parti Dell'orso Così per empatia Io vado al manicomio Dico ragazzi Ma di che cazzo ho parlato Volete far decidere Le popolazioni che sono lì Volete far decidere I politici che sono lì Che hanno in mano Che hanno in mano La situazione Che sono stati aletti Per proteggere Chi risiede in quelle zone lì Porca puttana Fermo là Certo Certo però Ciao ciao Strade in diretta Buonasera a tutti voi Ben ritrovati Si viaggia in coda In Lombardia Per un incidente Sulla 4 La Torino-Trieste Tra Dalmine e Capriate In direzione Torino In coronamenti Anche in direzione opposta Verso Trieste Nello stesso tratto Per la presenza Di curiosi Ci spostiamo in Piemonte Sulla 32 La Torino-Bardonecchia Per un incidente Questo fortunatamente Ora risolto Code tra Rivoli Avigliana Centro In direzione Bardonecchia Sulla 15 La Parma La Spezia Per operazioni di recupero Di alcuni mezzi incidentati Resta chiusa in uscita L'allacciamento con la 1 La Milano-Napoli Per il traffico Diretto a Milano Code sulla 14 L'autostrada Adriatica In questo caso Per la presenza Di un cantiere Tra Pescara Nord E Pineto In direzione di Ancona Infine al sud Sulla 3 La Napoli-Salerno In coronamenti Per un incidente Tra Ercolano E Portici-Bella Vista In direzione di Napoli Questo è tutto Grazie per la cortese Attenzione Noi ci risentiamo Più tardi La Zanzara Zanzarosi Visto che siete ancora qui Fatevi sentire Chiamate l'824-0024 O zappate il 393-7171-701 Non negateci Un po' di sonoqualunquismo L'unico animale assassino È l'essere umano Non l'orso O gli orsi Teste di cazzo L'unico animale Da abbattere Vaffanculo Cruciani L'orso era a casa sua Quello là Poteva andare a correre Da un'altra parte Altro che ammazzare l'orso Uè rimbambito di Cruciani Fino a ieri ti appoggiavo Su tante discussioni Eccetera Ma oggi mi stai facendo Proprio scendere i coglioni Tu e quell'altro Non hanno ghiacciato di merda Centomila volte meglio L'orso Di tutte e due Messi insieme Coglione Tu e quell'altro Non hanno ghiacciato di merda Allora La dimostrazione pratica Concreta Che ci sia una grande empatia A favore dell'orso E dalle telefonate che ricevo Dalle messaggi che ricevo Il 90% dicono Salvate l'orso Noi però Rimaniamo fermi Io almeno rimango fermi Mentre Parenzo un po' barcolla No Parenzo un po' barcolla Barcolla Perché quando sente L'opinione pubblica Che preme Che dice Beh forse E anche il buonismo Che preme dietro Il buonismo Che preme dietro Io sono di un'altra scuola Come ho provato a dire In questi giorni Lo dirò in una conferenza stampa Domani Conferenza stampa Sì sì faccio una conferenza stampa Sull'orso domani Da solo Convoco una conferenza stampa Farò tutti conferenze stampa Non posso convocare Anche io una conferenza stampa Comunque Va bene Anticipo qui i contenuti Di questa conferenza stampa Che farò sul mio Instagram Sulla mia pagina Instagram Io penso che Una soluzione politica adeguata Sia quello di metterlo In uno zoo Cioè Sostanzialmente E ai domiciliari In carcere sostanzialmente In uno zoo In uno zoo Più che abbatterlo Io sono per trasportare L'orsa All'interno Di uno di questi Bellissimi zoo Che ci sono In cui viene accudito Mi viene da mangiare Ma lo lasci decidere All'autorità Può fare il bagnetto 200 kg di orsa Io suggerirei Ma che fastidio Ti dà l'uccisione dell'orsa No 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 Io penso che ci sia Una situazione Si possa essere Una Io sono contro la pena di morte In generale Avanti fugatti Non mollare Avanti fugatti Sono contro Maimular Maimular Sono contro la pena di morte Che cazzo c'entra Cosa c'entra Quindi penso che ad esempio In un bello zoo Starebbe benissimo Vabbè Questa è la posizione Parenziana Che già è cambiata Quattro volte Diciamo da quando è iniziata Questa storia Mi ha colpito Cioè no Però quando dico allo zoo Intendo alla zanzala Quindi Spenderemo portare a Milano Quando io parlo di zoo Ovviamente Mi fanno notare Giustamente Signor Domenico Aruzzolo Ma che casino Non è Aruzzolo Poi peraltro Allora Ma uno può Chiamarsi Aruzzolo Sì Il cognome è bizzarro Però anche Parenzio Non è che sia Certo Parenzio è il nome di una città Dell'Istea Piace o meno Aruzzolo Allora Oggi Una delle notizie Che mi ha colpito È questa qua Che viene ovviamente Da Napoli Però Non è un'esclusiva Napoletana Questa Sciolto nell'acido Per errore I killer Offrono un risarcimento Già la cosa è incredibile Cioè un signore 22 anni fa A Napoli Scambiato per un poliziotto Credo Anzi no Non c'è tra niente Il poliziotto Scambiato per un traditore Per un pentito Per uno che aveva fatto Uno sgarro Non ricordo bene Giulio Giacco 22 anni fa A Napoli Uno scambio di persona Lo sciolgono nell'acido Finti poliziotti Lo vanno a prendere Eccetera Questi gli offrono 30.000 euro in contanti Altri 120.000 euro Dopo 20 anni Li hanno beccati Erano già in carcere Questi rischiano l'ergastolo E hanno offerto 30.000 E 120.000 Alla famiglia di questo Sciolto nell'acido Per uno scambio di persona E poi c'è scritto Rischiano l'ergastolo Ma come rischiano l'ergastolo Hanno sciolto nell'acido Una persona per sbaglio E c'è scritto Rischiano l'ergastolo Rischiano Questi hanno Hanno trovato le prove materiali Che hanno sciolto nell'acido Una persona Scambiandola per un'altra E in Italia si scrive Rischiano l'ergastolo La cosa incredibile È che loro La cosa strana È che loro dicono Scusate abbiamo sbagliato Sciogliono dell'acido Ma dice come abbiamo sbagliato Ma non è che quell'altro Andava a bere Sciogliono dell'acido Comunque Cioè se uno legge Quando io stamattina Ho letto questa notizia Prestissimo Ho sovegliato molto presto Stamattina A lavorare Certo Lavoro durissimo Mentre mi preparavano la colazione Ho cominciato a leggere Il giornale E allora Subito mi ha colpito Questa cosa Perché dico È come dire Ci siamo sbagliati Scusate Abbiamo sciolto Abbiamo sciolto La persona sbagliata Ma non è possibile Perché a parte L'hanno scoperto Anni dopo Attraverso il DNA Il sottotesto Il sottotesto E però ci chiediamo scusa Abbiamo sciolto La persona sbagliata Non è che sarà quella giusta Uno lo leggi Già Beh che gentili però Hanno chiesto scusa L'altra cosa incredibile Perché accettando la famiglia Avrebbe consentito Pare che abbiano rifiutato La famiglia Di quel Giulio Giacco Avrebbero consentito Uno sconto di pene Due imputati Cioè la cosa È pazzesca Ma ragazzi Ma questi sono stati scoperti Anni dopo Non è che hanno confessato loro Che hanno sciolto Nell'acido Ma cosa cazzo devi fare Buttare la chiave Questo sì Questa volta sì Chiudere Arrivederci e grazie Carcere Quello che volete Forse per alcuni di più Chiudiamo Basta Finito Finito No Rischiano l'ergastolo Sconto di pena Quello che offre 120.000 euro in immobili Scusi Ci siamo sbagliati Le do 120.000 euro in immobili L'altro 30.000 euro in contanti Ma voi siete matti ragazzi Voi siete matti C'è un signore Che si chiama Beretta Che non fa parte Anzi è un antimilitarista Che mi scrive Caro Cruciani Gli orsi in Trentino Hanno ucciso una persona In 23 anni I legali detentori di armi I tuoi amici Uccidono una persona Alla settimana Ben più degli orsi Una provocazione non sbagliata E dei ladri e rapinatori Che facciamo Li abbattiamo tutti Una puttanata Se squipedale Non c'entra assolutamente nulla Però è un paradosso Però ti deve far riflettere Io penso che dovremmo riflettere Su questo ci fermiamo E ci aggiorniamo a domani Prendiamoci un po' di tempo Per riflettere su questa cosa Che dice Questo simpatico ascoltatore Nella frenesia Di dover dire delle cose Si dicono delle cose sbagliate Prendiamoci del tempo Io ti faccio questa nuova proposta Di format Quando ci sono delle domande Noi prendiamoci del tempo Per riflettere Pagati Sempre pagati Ma ci mancerebbe altro Ma non è possibile Dare risposte Telefonate Subito Immediatamente Perché si dicono Inevitabilmente Delle sciocchezze In due ore di trasmissione Invece Questo ascoltatore A posto è una questione corretta E riflettiamo Ci aggiorniamo a domani Grazie Io vado Ci sentiamo Valeria da Modena Aspetta Questo vuole riflettere pagato Ti rendi conto Riflettere pagato Valeria da Modena Dimmi Valeria Dimmi E vabbè Rifletti un attimo Il bracciale È sicuro Come il carcere Ma non ho capito Signora Scusi Lei Quanti anni ha Signora Scusi Sono sempre quella Giuseppe Valeria da Modena Non mi sembra Una persona Come dire Di nuovo conio Di nuovo conio Cioè di nuova entrata Di nuova entrata Di nuova entrata No Che vuoi Valeria Non ho capito Spiegami Non ho capito Volevo far sapere Come si chiama Il ministro Nordio Sì Nordio Cosa volevi far sapere Il dottor Nordio Sì Il dottore Il bracciale Lo poteva mettere Anche a costo Anziché A chi A chi Ha messo il bracciale A quel russo No Ah sì Lei sta parlando Di quella vicenda Del russo Poteva mettere Il bracciale Al russo È una vicenda complessa Quella signora Valeria Molto complessa Quella vicenda Sì Vabbè Mi voglio sbolognare Non ti voglio sbolognare Vuoi parlare del caso Della spia russa Del russo Lano Ma che cazzo me ne frega a me Dimmi Valeria Che cosa vuoi dire Volevo dire Quelli in Francia Non ce li rendono Mortali Però cominciamo a pensare Continuiamo a pensare A Chico Forti Che è ancora La bella Se nomino Chico Forti Apparenzo Parenzo sbrocca Apparenzo sbrocca Totalmente Eh beh Non lo so Perché Non c'è Non è convinto Di questa campagna Il signor Parenzo Non è convintissimo Di questa campagna Tanto ha detto Che bisogna riflettere Sta riflettendo Sull'orsa Va bene Alessandro da Cesena Vai dimmi Alessandro Dimmi Giustamente Brambilla Giustamente Brambilla Dice Mitologico Gianluca Brambilla dice Chiedono scusa E dice Lobotomizzazione Parenzo puoi prendere Per favore Hai riflettuto abbastanza Sulla questione dell'orso Dimmi Alessandro Dimmi Io non voglio parlare Quale puttanata ho detto Quale puttanata avrei detto Dimmi Ma il presentato Che va abbattuto Certo Che va abbattuto Certo Non è la legge del taglione È la normalità È la normalità Un uomo vale come tre orsi Capito No Facciamo Decidere la madre di Andrea Direttamente Lei ha semplicemente detto Che non vuole l'abbattimento Perché non le ridà il figlio Semplicemente questo Una cosa umana Che decidono per te Lei è combattuta Per uno o due anni Per il covid Chi Eh te Adesso giustamente tu Adesso tu giustamente tu No io dico Che su queste questioni Di gestione Di gestione del territorio No Non è un incontro Agli spiriti Gli scienziati Che scelgono per noi Di gente messa lì Votata Si può contestare tutto È legittimo contestare È legittimo Alessandro È legittimo contestare tutto Anche ovviamente I provvedimenti Della regione Trentino Quello che è assurdo È questa ondata Ridicola Patetica Di empatia Per un orso Che ovviamente È pericoloso E va eliminato Va eliminato E dopo Quando è eliminato Non mi interessa Intanto eliminiamo quello Poi vediamo Fermola Ti hanno sempre detto Che la vita è tutto un compromesso? Non con Opel Oggi Scegli Mocca Un design audace La tecnologia che desideri E zero compromessi Mocca è tuo Con anticipo zero Da 249 euro al mese 35 rate mensili O 18.000 km Rata finale 15.979 euro Vota 9.95 Tag 11.76 Con scelta Opel Fino al 30 aprile Offerta soggetta a limitazioni Sono presso i concessionari Aderenti Info su Opel.it Mai senza Monge Quanta allegria Con i nostri amici a quattro zampe Noi di Monge Pensiamo a farli stare bene Proprio come voi Da 60 anni Li nutriamo con amore Gusto e qualità Made in Italy Monge Natural Super Premium Le crocchette con la carne Come primo ingrediente E prebiotici Per il benessere intestinale E da oggi Provate i nuovi Monge Gift Gli snack funzionali Con tante ricette Grain free A basso contenuto calorico Monge Il pet food Che parla chiaro Ogni spostamento Ci ispira Per questo in Italia Nasce Mundis Per gestire infrastrutture E servizi innovativi Di mobilità sostenibile E dare un nuovo ritmo Alla tua vita in movimento Mundis Improve moving life Buongiorno maestro Benvenuti in poltrone sofà Signora Orietta Volevo un divano Comodo per me Ma anche per lo svaldo Provi un poltrone sofà Di ultima generazione C'è almeno Il 50% di sconto Sulla collezione amore Termina domenica 23 aprile Caspiterina Coltrone sofà Solo divani Di qualità Verificare modelli A disponibilità in negozio Con Club Kuwait Mi basta un click Per trasformare I miei punti stella In quello che preferisco Arrivo Come i premi Del catalogo Kuwait Che ricevo Con la consegna veloce Amazon inclusa Scarica l'app Club Kuwait E scopri tutti i vantaggi Kuwait Muoviti più liberamente Il segnale orario Vi è offerto da Gestisci la tua azienda Dallo smartphone Con Fluentis CRP Scarica l'app Da fluentis.com Le 19 e un minuto GR24 Il sole 24 ore Il presidente Mattarella In Polonia Per la libertà dei popoli Dice sostegno all'Ucraina Fino a quando necessario Crisi del grano bis Effetto domino La commissione europea Contro il blocco Alle importazioni Promette sostegno Ballotaggio In Friuli Venezia Giulia Sorpresa Udine Dove vince Il centro-sinistra Di Detoni I nodi del caro mutui Giungono al petto In le compraventi D'immobili a uso abitativo Tornano a calare Roberta Frisani In regia Gigi Donnelli Al microfono Ancora buonasera Ripartiamo dunque Dall'attualità internazionale Dalla seconda giornata Di visita ufficiale Del presidente Mattarella In Polonia L'occasione per il capo Dello Stato Di ribadire una posizione Molto ferma Sul conflitto Che da quasi 14 mesi Devasta l'Ucraina Siamo inorriditi Da alcuni comportamenti Disumani Che nella guerra Vengono utilizzati Da parte delle forze armate russe Colpendo bersagli E infrastrutture civili Lo ha detto Il presidente Mattarella A Varsavia Dopo un colloquio Con il presidente Polacco Duda E aggiunge Sintonia piena Che significa Sostegno all'Ucraina Finché è necessario Finché occorre Sotto ogni profilo Di forniture militari Finanziario Umanitario Tra i crimini di guerra Che Kiev promette di punire Gli omicidi di massa Di civili Bambini compresi In un video diffuso Sui social Due mercenari Del gruppo Wagner Ammettono Di aver ucciso Oltre 20 bambini A Bahmut e Soledar E sparato in testa A una bambina Di 5 anni Una confessione Non è sufficiente Ci deve essere Una punizione Crudele e giusta Dichiara il capo Dell'ufficio presidenziale Ucraino Yermak Mentre il fondatore Del gruppo Wagner Prigojin Esclude che ci siano state Esecuzioni di bambini Intanto restalta La tensione Tra Londra e Mosca Per l'uccisione di 7 mercenari britannici Da parte di una squadra D'assalto russa Mentre altri due villaggi Nella regione russa Di Belgorod Al confine con l'Ucraina Sono stati bombardati Dalle forze armate di Kiev Rosanna Magnano Radio 24 Il sole 24 ore La crisi del grano BIS di fatto Che colpisce I paesi dell'est Dopo Polonia Ungheria Anche la Slovacchia Vieta l'import Dei cereali Dall'Ucraina L'Unione Europea Prepara un nuovo Pacchetto di aiuti E' scattato Il temuto effetto Domino sul grano Ucraino Per i paesi Dell'est Europa Dopo Polonia E Ungheria Anche la Slovacchia Ha deciso di vietare Temporaneamente Le importazioni A tutela Dei propri produttori E la Bulgaria Valuta Di fare lo stesso Per alleviare La pressione Sui prezzi Dei cereali Nei paesi Confinanti Con l'Ucraina Colpiti dall'eccesso Di importazioni Via corridoi Di solidarietà La Commissione Europea Che ha definito Inaccettabili Le azioni unilaterali Adottate Ha annunciato In tempi brevi Un nuovo pacchetto Di aiuti Che potrebbe arrivare A 75 milioni di euro Dalla riserva Di crisi PAC Gli stati Interessati Dovrebbero essere Bulgaria Polonia Ungheria Romania E Slovacchia Il Cremlino Intanto Definisce Poco brillanti Le prospettive Sulla prosecuzione Dell'accordo Con Kiev Che consente L'esportazione sicura Del grano ucraino Nel Mar Nero E l'alto rappresentante Della politica Estereuropea Borrell Denuncia La Russia Sta nuovamente Bloccando 50 navi Cariche di grano Nel Mar Nero Maria Luisa Pezzali Radio 24 Il sole 24 ore Sul tema Dei migranti Arriva in aula Il decreto Cutro Resta lo scontro Tra maggioranza e opposizione Domani In piazza Scende a manifestare Il mondo Dell'associazionismo Al senato La commissione affari Costituzionali È ancora alle prese Con l'esame Del decreto Cutro Atteso domani In aula Tra gli emendamenti Da discutere C'è anche quello Con cui la maggioranza Punta ad introdurre Una stretta Sulla protezione speciale È un istituto Che non ha funzionato Afferma il segretario Della Lega Salvini Il quale assicura Che sulla questione Migranti Il centrodestra È coeso I numeri dicono Che questa cosiddetta Protezione speciale Inventata dal governo Giallo-Rosso Due anni e mezzo fa Su 46.000 permessi dati Ne ha convertiti in lavoro Poco più di 2.500 Quindi vuol dire Che non funziona Critiche Invece Le opposizioni Che per rallentare L'iter del decreto Hanno presentato 350 emendamenti A chiedere alla maggioranza Di non intervenire Sulla protezione speciale Sono anche i sindaci Di Roma Milano Napoli Firenze E Bologna Con una stretta Aumenterà il numero Dei migranti Irregolari Avverte il primo cittadino Di Milano Sala Nel frattempo Le regioni Amministrate Dal centro-sinistra Emilia-Romagna Puglia Campania E Toscana Hanno deciso Di non sottoscrivere Intese con il governo Sullo stato di emergenza Per l'immigrazione Andrea Viali Radio 24 Il sole 24 ore Roma Il governo Meloni Conferma Che non è più Vietata l'esportazione Di armi Negli Emirati Arabi Uniti Lo ha deciso Il Consiglio dei Ministri Che come spiega Il comunicato Di Palazzo Chigi Dopo aver ascoltato Una relazione Del Ministero Degli Affari Esteri E della Cooperazione Internazionale Ha dato attuazione A quanto stabilito Dal precedente governo E dunque attesta Che l'esportazione Di materiali d'armamento Non ricade più Tra i divieti La Commissione Europea Fa pressione Affinché Roma Si allinei Con la direttiva Bolkestein Nel campo Delle concessioni Balneari La questione Delle concessioni Balneari Deve essere risolta Urgentemente Bruxelles Torna all'attacco E sollecita Roma A rispettare La direttiva Bolkestein Anche sulle concessioni Balneari In assenza Di decisioni Che garantiscano Trasparenza E concorrenza Leale Nel settore Balneare Bruxelles Secondo indiscrezioni Sarebbe pronta Un ulteriore giro Di vite Sulla procedura Di infrazione Con l'invio Di un parere Motivato Senza una risposta Alle argomentazioni Comunitarie La Commissione Europea Potrà allora Decidere Di deferire L'Italia Alla Corte Di Giustizia Europea Il parere Motivato Potrebbe arrivare A metà settimana Alla vigilia Di una nuova sentenza Della Corte Di Giustizia Europea Sull'applicazione Della direttiva Bolkestein Del 2006 Il governo Meloni Con il decreto Mille proroghe Ha prolungato Le concessioni Balneari Fino al 2024 Una decisione Bocciata A marzo Dal Consiglio di Stato Ma la scelta Del governo Non piace Neppure a Bruxelles L'Italia Fanno sapere Fonti dell'Unione Si sarebbe impegnata A presentare Molto rapidamente Proposte All'Unione Europea Le opposizioni Sono critiche Per il Movimento 5 Stelle Il governo Meloni Sui balneari Porta l'Italia dritta A un deferimento Alla Corte Di Giustizia Europea Mentre Secondo l'Alleanza Verdi e Sinistra L'esecutivo Difende le lobby Teresa Trello Radio 24 Il Sole 24 Ore Roma Rivaltone a Udine Dove il neosindaco È di centrosinistra Ma nella coalizione Spunta il problema Del termovalorizzatore Di Roma Udine inverte il trend E va al centrosinistra Alberto Felice Detoni Diventa sindaco Con il 52 8% dei voti Sostenuto Dalle liste Del PD Azione Italia Viva Verdi e Sinistra Accordo anche Con il Movimento 5 Stelle Che al primo turno Aveva schierato Ivano Marchiol Che aveva raccolto Il 9% dei voti In questa seconda tornata In caro l'affluenza Al 45% Rispetto al 54% E il candidato Del centrodestra E il sindaco uscente Pietro Fontanini Si ferma Al 47 E 2 Così il neosindaco Detoni Sono ovviamente Molto lusingato Di questo risultato È stato un risultato Come avete visto Di misura Però Abbastanza Chiaro Una città Che può diventare Un punto di partenza Per la segretaria PD E l'Ischlein Soddisfazione Per la vittoria Detoni Costruita Con spirito Di squadra Ma la convergenza Nel centro-sinistra Rischia di naufragare Sul termovalorizzatore Di Roma Voluto Dal sindaco Dem Roberto Gualtieri Sostenuto Da Carlo Calenda Di azione Ma contestato Da sempre Dai 5 Stelle E adesso Anche Dal gruppo Alleanza Verde Sinistra Italiana Elisabetta Fiorito Radio 24 Il Sole 24 ore Roma In Sudan I ministri degli esteri Statunitense Britani Come anche quello russo Hanno esortato le parti In conflitto A cessare immediatamente Le violenze Invitandoli a tornare Al tavolo Dei negoziati Tutto questo Avvenuto con Comunicazioni Da una parte Da Mosca Dall'altra Dal segretario di stato Americano Antony Blinken A margine Del vertice G7 esteri In Giappone In Iran In Iran Invece La repressione Si concentra E continua a farlo Sulle donne Sette anni Tanti ne deve passare In carcere Secondo la giustizia Iraniana Golrok Ebrahimi Irae Scrittrice Attivista Condannata Per assembramento E collusione Contro la sicurezza Nazionale E per propaganda Contro il sistema Irae Era stata arrestata A causa delle sue attività Sui social media A fine settembre Poco dopo le proteste Antigovernative Esplose in seguito Alla morte Di Masa Amini Secondo rapporti pubblicati Sui social media La scrittrice Potrà presentare appello Contro le condanne ricevute Irae Era già stata più volte Imprigionata In passato Anche a causa Di un libro Che non ha mai ricevuto L'autorizzazione Per essere pubblicato In cui contesta La pratica Di punizione islamica Della lapidazione Fino alla morte La notizia di Irae Non è l'unica Ad arrivare dall'Iran Ancora una volta Decine di studentesse Sono rimaste avvelenate E trasferite in ospedale Dopo aver respirato Gas tossico In alcune scuole del paese Le prime intossicazioni Erano state rilevate A fine novembre Ma episodi analoghi Si sono susseguiti Regolarmente Fino a oggi E hanno coinvolto Oltre 5.000 ragazze Mentre in alcuni casi Sono rimasti intossicati Anche alunni Di scuole maschili Valeria De Rosa Radio 24 Il Sole 24 ore È stato cancellato Il primo tentativo Di lancio Della Starship Il razzo gigantesco Che trasporta La navetta Destinata a futuri viaggi Verso la Luna e Marte SpaceX ritenterà Il primo lancio Di test Della Starship Non prima di mercoledì Dopo che un'anomalia Ad una valvola di pressione Ha costretto i tecnici Della società Di Elon Musk A cancellare Il tentativo In programma Oggi pomeriggio Alla Starbase Il centro spaziale Nato negli ultimi anni Tra le paludi Di Boca Chica Nel sud del Texas Starship È il razzo Più potente Mai costruito Dall'uomo Alto 120 metri E spinto Da 4.500 tonnellate Di carburante Metano E ossigeno liquido Destinato ai futuri viaggi Verso la Luna E poi Marte Enrico Pagliarini Radio 24 Il sole 24 ore Ritorniamo a terra Mutui acquisti di case In calo Lo segnala l'Istat Difendendo i dati Sul mercato immobiliare C'era da aspettarselo I nodi Della caro Mutui Figlio dei rialzi Del costo del denaro Da parte della Banca Centrale Europea Vengono al pettine L'Istat Fa sapere Che nel terzo trimestre 2022 Le compravendite Di immobili Per il 95% A uso abitativo Sono diminuite Di un punto percentuale Rispetto allo stesso Periodo 2021 E del 2,7 Nel confronto Con il trimestre precedente Ma soprattutto Che le convenzioni Notarili Per mutui Finanziamenti Legati all'acquisto Di immobili Hanno registrato Un calo del 7,4% Su base annua E del 5,5% Guardando al trimestre precedente E se per le compravendite Il bilancio Dei primi nove mesi 2022 Segna comunque Una ripresa Di oltre il 5% Non così per mutui Finanziamenti In calo Di oltre Un punto e mezzo Insomma La lotta All'inflazione Della BCE E il conseguente Caro mutui Non è passato Inosservato Agli occhi Di chi deve indebitarsi Per il Codacons Con il rialzo Dei tassi Un mutuo A tasso variabile Costa oggi Fino a 4.236 euro All'anno in più Rispetto al 2021 Fino a 3.240 euro In più Se a tasso fisso Marco Mancini Radio 24 Il sole 24 ore Per il calcio Stasera alle 20.45 Fiorentina Atalanta Chiude il programma Della trentesima Di Serie A Ma intanto È già vigilia Di Napoli-Milan Ritorno dei quarti Di finale Dei quarti Di Champions Ovviamente Domani sera Al Maradona Tutto esaurito Si riparte Dal 1-0 Per i rossoneri Dell'andata Tra i protagonisti Il brasiliano Juan Jesus Chiamato a sostituire Nel cuore della difesa Partenopea Lo squalificato Kim Lo sentiamo da Sky Sport È una bella partita Da sfruttare Da giocare Da divertire E comunque Essere consapevole Della nostra qualità Perché abbiamo fatto Stiamo facendo benissimo Il campionato Siamo a più 20 punt 22 E quindi Questo dimostra La forza di questo Napoli Quindi Dimostreremo Comunque in questa partita Anche se è una partita Di Champions League Di dare il nostro meglio Sicuramente Passare il turno Ed è tutto Per adesso GR24 Torna alle 21 GR24 Il sole 24 ore Direttore Fabio Tamburini Molti credono Che il metaverso Sarà solo virtuale Ma un giorno I vigili del fuoco Useranno la realtà Aumentata Per orientarsi Più rapidamente Negli edifici in fiamme Guadagnando istanti preziosi Per salvare più vite I medici Potranno visualizzare Le immagini diagnostiche Nel metaverso E prendere decisioni Più rapide in emergenza Anche se i mammut Sono istinti Nel metaverso Gli studenti Potranno tornare All'era glaciale Per visitare il loro mondo Il metaverso È uno spazio virtuale Ma il suo impatto Sarà reale Parliamoci chiaro Stirare Non è mai stata La mia passione Ma da quando uso Assi da stiro Di Foppa Pedretti Stirare È un'altra cosa Pratici Durevoli Innovativi E anche made in Italy Sul sito FoppaPedretti.it Trovi quello che fa per te Foppa Pedretti L'albero delle idee Installatore Smaltire lampadine Tubi neon Ti fa venire Il mal di mare Approda in un porto sicuro Scegli Extra Lamp Di Ecolamp Rapido Professionale E conveniente Visita il sito Ecolamp.it Questo programma Può contenere riferimenti espliciti E si rivolge ad un pubblico adulto E non è adatto ai minori La Zanzara Qua giù Se volete parlare al telefono Che la Zanzara Da fallotto 0024 0024 Oppure Se volete mandare Non ci faccio i miei messaggi Coppa Whatsapp 393 7171 701 Farenzo Che venneva dei bigliettini Con il numero di telefono Di Parenzo Ho comprati tutti Stai tranquillo Mi sei costato un occhio Dalla testa Dice che andava venduti Solo una trentina Prima E comunque Ho comprati Perché stasera Ti voglio dare Buonanotte Se sentimo dopo David Rimedio per l'orso E per tutti gli altri animali Del cazzo Piombo caldo e rovente Che cura meravigliosa Piombo caldo e rovente Non è proprio Una cosa bellissima Il piombo caldo e rovente Anche se devo dirti la verità I tuoi figli e i nipoti Solo quello che tu hai seminato In questi anni E tutto quello che tu hai fatto Ti sta tornando indietro Ti sta tornando indietro Perché il mangiafuoco A un certo punto Ha il circo Che gli si rivolta contro No no ripeto Questo signore qua Che dice Tuoi amici legali Detentori di armi Io mi picco Di essere un grande lobbista Senza soldi Senza essere pagato Delle industrie delle armi Cioè io sono un grande Sostenitore dell'industria delle armi Io voglio essere Un sostenitore dell'industria green Invece Che è quella del futuro No vai a fare il culo Tu hai l'industria green No non mi interessa No non mi interessa Io sono un grandissimo Lo dico a voce alta Uno della Negazionismo climatico Ma che vergogna Un paladino Del negazionismo climatico Viva il professor Battaglia Viva il professor Battaglia Viva il professor Battaglia Fermo Secondo Secondo sono un grande Sostenitore della lobby Delle armi E me ne fotto Delle vostre critiche Per beniste e boniste Me ne fotto Penso che le aziende Delle armi Siano un bene Per questo paese Penso assolutamente Che il cambiamento climatico Sia una puttanata Ci siano dei problemi Non c'è dubbio Ma questa cosa epocale Non esista Vedesi e leggesi Battaglia Provi Non ne voglio Non ne voglio Parare più di questa cosa Due scienziati Rispetto alla quantità Di scienziati mondiali Che hanno dimostrato Esattamente contrario Non mi interessa Non è che necessariamente È un po' come Mi ricordo quando ti battevi Per la maggioranza Degli scienziati Che dicevano Che il vaccino Era fondamentale È un po' come montagnere È un po' come montagnere Adesso i nodi Stanno venendo a galla Però Stanno venendo a galla Ma oltre montagnere Chi c'era Oltre montagnere Che adesso Sottile che i vaccini Non funzionano Chi c'è Ce n'è un altro O soltanto montagnere Portavate in giro Il nostro scetticismo Il nostro scetticismo Avete sfruttato Quel poro vecchio Portandolo in giro Come una madonna Pellegrina Per l'Europa A fargli sostenere Che i vaccini Erano pericolosi Siete vergognosi E ora stai facendo Lo stesso Sulla questione climatica Dove citi Due scienziati Rispetto a una Lettora mondiale Di studiosi E di scienziati Che dicono tutti Che il tema Del cambiamento climatico Unistrapagati È il tema Tutti i governi del mondo Sono impegnati Nel cambiamento climatico Andiamo a sentire Uno di questi Cervelloni Che si chiama Trivellone Il cervellone Trivellone Ecco Il cervellone Trivellone Ospite della zona bianca Naturalmente Che parla di Senti senti Non bisogna arrestare Noi ambientalisti Ma arrestare il collasso climatico Però Trivellone Intanto mettiamo al sicuro Voi ambientalisti Così mettiamo al sicuro I monumenti Non è bello Non è bello quello che hai detto Trivellone A Mediaset È brutto Perché Trivellone Non fai un grande Eh ma non fai Ma la mia domanda La domanda che rivolgo a voi È quanto ci costerà Il collasso climatico Il World Economy Forum Ci ha condiviso Che circa il 20% Del prodotto interno lordo Dei paesi del G20 È a rischio Proprio per conseguenza Del collasso climatico Dell'inazione Per il collasso climatico Quindi se vogliamo pensare Anche da un punto di vista Economico Pensiamo a quello Che è il futuro Di questo paese Nel pieno di un collasso Ecoclimatico Ma questo che cazzo Questo lo fanno parlare A Mediaset Come se fosse un guru Questo Trivellone Cervellone Ce lo fanno passare Parlare lì A pontificare Ma la cosa più incredibile Che questi rivoluzionari De noantri E sono talmente rivoluzionari Che prendono Per oro colato Le istituzioni internazionali Gli organismi internazionali L'ONU L'OMS Che sono dei baracconi Fatti di parrucconi Spesso pagati O strapagati Da lobby E invece questi qua E invece questi qua Prendono tutto come oro colato Perché serve a questa narrazione A questa drammatica narrazione Senti Trivellone Cervellone Senti Anche chi continua a investire nel fossile Poletti Ah l'arrivo del polettone Andiamo col polettone Vai a bastonare duro Vai a bastonare duro Vai Basterebbe ascoltarci Ma io guardi Io mi auguro che la Meloni Quando sarete in carcere Per tutti i danni che avete fatto Vi venga a trovare in carcere In carcere dove meritate di essere Sono pronto a farlo Perfetto E allora io mi auguro Che questo governo Per tutti i danni che Io voglio Vi raggiunga in carcere Voglio sottolineare un altro aspetto E non se ne può venire fuori così Quelli sono 50.000 euro Sono d'accordissimo La strada in fazza del Duomo È imbrattata Ed è danneggiata perennemente Dalle piogge acide Così come Allora buttiamogli addosso A tra roba Così come lo è Il Duomo di Milano Dallo smog Che è stato causato Dell'inquinamento Cioè capito Cioè in fin dei conti Quei monumenti Che noi imbrattiamo Dice Cervellone Trivellone Sono rovinati Quei monumenti Dalle piogge acide Ma viva Franco Battaglia Ma viva Franco Battaglia Non ti seguo Dai Gianmarco Dalla Spezia Avanti tutta Dai Non seguo Cervellone Pronto Dimmi dimmi Pronto Sta puoi sentire Cruciani Io Belì Ti chiamo Perché mi girano le balle Ecco il genio Ecco un altro genio Sta puoi sentire Allora sta sentire Ma allora io Che sono la Panda 1000 Mi devo comprare la macchina elettrica Perché se no riscaldo il pianeta No amico mio Guarda che da quando esistono questi qua Aspetta 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 Allora che costa anche un sacco di soldi Belì la macchina elettrica No In realtà risparmi Oggi guarda Voglio dire una cosa Oggi Era una riunione Ti dico questo caro ascoltatore Non sente Gentile ascoltatore Ti racconto questa esperienza personale Oggi avevo una riunione Ti fai jet elettrico E mi sono venuti a prendere Con una macchina elettrica Mi sono venuti a prendere Con una macchina elettrica Oggi Andando a questa riunione Sì sì proprio oggi Mi sono venuti a prendere Con una bella Non dico una marca Con un autista Con un autista Ma questo ci mancherebbe Ma il tema non è l'autista Il tema è la macchina elettrica Allora aspetta un attimo Aspetta un secondo Posso dire una cosa Allora facciamo un appello Qui ai tuoi amici imprenditori Ci serve una macchina Anche una macchina elettrica Me ne fotto Per andare a prendere Il dottor Bambalau Nel campo ROM Davanti a un campo ROM Siccome i tassisti Potrebbero essere rinuttanti Rinuttanti Ad andare a prendere Il dottor Bambalau Davanti al campo ROM Noi chiediamo l'intervento Ma posso andare anch'io L'intervento Eh no Non te lo consiglio però Di andare con la tua macchina Di fronte al campo Della barbuta Ma io ci vado molto Non ho nessun problema Rischio di fare tardi Per la messa in onda Ah sì Questo è bene Questo non puoi andare Non puoi andare A meno che non vogliamo fare Una grande diretta Dell'arrivo di Parenzo Al campo ROM Ma si potrebbe sentire male Ma se volete Ci proviamo sicuramente Grazie Grazie Sandro da Milano Vai Sandro Dimmi Sandro Sì ciao Senti io volevo dire Prima di tutto Volevo fare una piccolissima premessa Volevo esprimere solidarietà Con i ragazzi israeliani Che stanno manifestando Contro il governo fascista Di quel governo là Fascista Fascista Non mi chiederei fascista Ma sono belle Se manifestano Se manifestano Vuol dire che non Se non manifestano Se manifestano Vuol dire che non stanno bene Poi rompetti i coglioni A Putin A Putin A Putin rompetti i coglioni Ok E c'entra Putin E no Perché fanno Con questa informazione Completamente distorta Loro cosa fanno Dipingono Come hanno fatto Con Gheddafi Saddam Hussein Dipingono Come dei terroristi Come Milosevic Che casualmente È infartato Prima di essere interrogato All'AIA Tutta gente Che non voleva Assocettarsi Al fondo monetario internazionale Sempre questi gruppi Loro appoggiamole Interessante Molto interessante Il filo conduttore Si chiama Fondo monetario internazionale Cioè secondo lei I grandi buratterai Sono in fondo monetario internazionale Molto interessante L'ha detto Di Pietro L'ha detto Di Pietro Che c'è una cupola finanziaria Di Pietro L'ha detto sì L'ha detto sì L'ha detto lui C'è una cupola finanziaria Scusa Parenzo Ti risulta Ti risulta Che ci sia Di Pietro Ma che cazzo Ti vai a chiedere Cosa gli risulta Quello non risulta Neanche il naso Che ci ha attaccato la faccia Cosa vuoi che ti dica di sì Il problema L'informazione è una cosa Se vuoi sapere le cose Devi chiederle a me Questo abbia un problema Di nervi Non di informazione Questo signore Giuseppe Cruciani Le cose devi chiederle a me No a Parenzo Perché Parenzo Ti dice le cose Che dice il mainstream Il mainstream Ma in o meno Sì quello che Non sono inglese Non sono inglese Non sono inglese Perdonami gli errori Ma io non dico minchiate Differentemente Da quello che fai te Ok Non ho capito una cosa Dove leggi tu le cose Ah su internet Scusami Sì sì Ti informi su internet Ma su wikipedia Tipo le tinte Ma guarda Parenzo Non buttarla in merda La discussione Ma dove ti informi tu Perché se sei paladino Se sei paladino Della libertà Non dici una parola Su Assange Non hai detto una parola Su Assange Ma Assange Io non so se Assange Gli americani Mi tagliavano Gli ghiacchini Gli ghiacchini Gli americani Non hai detto un cazzo L'ha detto Assange E tu non hai detto Mai un cazzo Su Assange Ma infatti Io non difendo Assange Io non lo difendo Assange Infatti Ah beh ci facerebbe altro Cosa vuoi difendere Ma chi ti ha mai detto Che io difendo Assange Ma infatti Lo so benissimo Che non lo difendo Scusa Andiamo per ordine Perché mi sembra Che c'è bisogno Di un po' di ordine Allora Io qua Anche Cruciai Non difende Assange Assolutamente Io leggo qua Agenda Rothschild LGBT Agenda Che vuol dire Agenda Rothschild Esiste un'agenda Rothschild Non si occupano di banche Non si occupano di LGBT I Rothschild Dimmi Ascoltando i complottisti Si occupano solo di banche I signori Rothschild Allora Ascolta una cosa Allora Complottismo È una parola Che se tu lo sai Che non lo saprai Sicuramente Idiotismo Idiotismo Ho detto sbagliato Idiotismo Infatti Infatti L'hanno coniato Tre anni dopo Quelli della CIA Quando indagavano Sul caso Di Kennedy Hanno detto complottisti Siccome non sapevano Chi ha ucciso Kennedy Chi è stato Rothschild Ti sto dicendo Chi sto dicendo Eh beh Il fondo monetario Non voleva essere Kennedy Ah il fondo monetario Ha ucciso Kennedy Se mi fai parlare Te lo dico Non mi fa la risata Kennedy voleva stampare I soldi Come voleva stampare I moro Che casualmente Casualmente Mamma mia Che confusione Che ha in testa Sto idiota Ma quale confusione Ma tu non eri neanche nato Non eri vinto C'era moro Voleva stampare Dei 500 lire Di carta Voleva stampare Tra altre cose Adesso non dico Perché sono cose Un po' sensibili Aspetta però Sandro È interessantissimo Sono cose un po' sensibili Sono cose un po' sensibili Allora Da chi è stato ucciso Moro Aspetta calma Da chi è stato ucciso Moro Dalle Brigate Rosse Che cazzo dite No no Secondo lui Ma vai a dormire Te le Brigate Rosse Che cazzo c'era Dietro le Brigate Rosse Ma non dire minchiate Sapevano benissimo Dove fosse Poi con Moro Con i terroristi Non si tratta Invece con quelle sciagurate Che sono andate in Siria Si è andato 8 milioni di euro E Moro chi l'ha ucciso allora Perché voleva stampare i soldi Ma chi l'ha ucciso Chi l'ha ucciso Moro Chi l'ha ucciso Zior Moro Allora Moro voleva fare Tante cose Voleva fare Allora Aveva fatto Il lodo Moro Che non glielo spiego Tanto Non lo sappiamo Sì poi Lo conosciamo un po' Sì poi Che c'è un segreto di stato Sì ma chi l'ha ucciso Alla fine Qual è la tua convinzione Ascolta io Io non ho La lente Non è la mia convinzione La convinzione Sono fatti Eh appunto Aveva fatto un accordo Con i palestinesi Aveva fatto E si chiama Lodo Moro E poi ci è stata tutta Una serie Sì ma chi l'ha ucciso Ci sono nomi e cognomi Nell'Ombi Sì Sarà stato Lomoragno Dai L'ha ucciso Lomoragno Ma che cazzo c'entrano Nel cognome Ti sto dicendo Ma quali lobby Quali lobby Allora 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 Parliamo Parliamo di Ria Trilaterale CFR Aspen Club dei 19 Club dei 30 UEF Fabian Society Della Fabian Society Gruppo dei 300 Della Fabian Society Ne ha parlato anche Ne ha parlato anche Come si chiede No Club di Roma Scusa Quello me lo sono dimenticato Ne ha parlato Il magistrato Carlo Palermo Quello scampato all'attentato E tu quello parente Non sai neanche Non sai La temperatura ideale Non è mai stata così A portata di mano Con le pompe di calore Gris Tecnologia e affidabilità Sono sinonimo Di benessere sostenibile Riscaldamento Climatizzazione E acqua calda sanitaria In un unico sistema E accedono ai benefici fiscali Pompe di calore Gris Tante esigenze Un'unica soluzione Gris.argoclima.com Cerchi personale Per la tua attività? Baccaica.it È il sito di annunci Che fa per te Ogni mese Due milioni di persone Visitano la nostra sezione lavoro Trovare collaboratori E collaboratrici È più facile Per info Scrivi a Contattaci Chiocciolabacca.it Oppure visita la sezione business Su www.baccaica.it Ti rispondiamo anche su whatsapp Baccaica.it Al servizio del lavoro Puoi scegliere di guardare O scegliere Antidolor Pro E tornare a giocare Non lasciare che i dolori osteoarticolari Ti limitino nel lavoro E nel campo libero Prova Antidolor Pro Il nuovo dispositivo portatile Per magnetoterapia Di Amel Medical Antidolor Pro È comodo da usare Agisce già dopo 30 minuti E puoi provarlo gratuitamente Chiamando l'880-20-40 Ripeto 880-20-40 Ci sto Provo Antidolor Pro Dispositivo medico C Leggere avvertenze e istruzioni Pubblicità autorizzata Ciao Come si chiama il tuo programma Per la gestione digitale Delle informazioni? Arxivar In azienda Dobbiamo archiviare i dati Direttamente dal nostro gestionale Arxivar lo fa E gestire i processi di approvazione Arxivar lo fa Eppure bene E firmare digitalmente I documenti con il cellulare Ma certo Guarda fai prima Google Arxivar E scopri quanti problemi Ti risolve Arxivar La soluzione per la gestione digitale Delle informazioni Della tua azienda Fineco La banca numero uno in Italia Per Forbes Vi presenta Borse in diretta Sono tutti in negativo Gli indici a Wall Street Il Dow Jones segna Una flessione dello 0,09% S&P 500-0,14 Nasdaq-0,23 Seduta abbastanza negativa Anche per le borse europee Milano in Futsimib Ha segnato un ribasso Dello 0,62% Parigi meno 0,28% Francoforte meno 0,11% Un po' meglio Londra Più 0,10% A Piazza Affari La migliore è stata Banco BPM Più 3,01% Seduta brillante Anche per Iveco Più 1,77% Penexi più 1,44% Più caute invece Team Più 0,59% Edeni Più 0,57% Con il greggio in calo Sotto pressione Fineco Meno 4,26% Saipem Meno 4% E poi anche Cucinelli Meno 2,7% Moncler Meno 1,97% Deboli insieme all'intero comparto del lusso in Europa Spread in calo a 183 punti base Euro contro dollaro in calo a 1,09 e 22 in questo momento È tutto Griller alle prime armi o maestro del barbecue? La scelta giusta è sempre Weber La qualità che ha fatto la storia Barbecue a gas Carbone Elettrico a pellet Facili da usare Adatti ad ogni occasione Per una grigliata classica oppure low and slow Weber Molto più di una griglia Uno stile di vita Trova il tuo barbecue e i punti vendita su weber.com Fai fatica a trovare personale qualificato? Ben l'85% delle imprese non riesce ad assumere Trovare il talento ideale non è più questione di fortuna Ma di strategia Lo sappiamo bene noi di Reverse Con il nostro servizio unico ed innovativo di ricerca e selezione Fatto di dati, tecnologia ed ed hunter Affiancati da esperti specializzati In soli 10 giorni selezioniamo i migliori candidati per ciascuna esigenza Reverse L'ed hunting diventa una scienza esatta Scopri di più su reverse.hr Vuoi il meglio per il tuo business? Liberati dai pensieri E fai spazio all'ibrido con Electrify Your Business 28 maggio Organizzato da Trentino e il gruppo 24 ore Nella diciottesima edizione Il futuro del futuro Intelligenza artificiale, transizione ecologica, economia digitale e molto altro Oltre 250 eventi per capire assieme come affrontare le sfide di un mondo nuovo Senza dimenticare il fuori festival Incontri e spettacoli per parlare di futuro da un altro punto di vista Festival dell'economia di Trento 25-28 maggio Festivaleconomia.it La zanzara Io ero ambientalista Mi stavano a cuore tutte le battaglie legate al rispetto dell'ambiente Ma da quando quelli di ultima deturpazione hanno monopolizzato questo tipo di lotte Giro solo con capi in ermellini scuoiati davanti agli asili nido a sgasare coi furgoni Veramente mi hanno fatto proprio salire gli idrocarburi nei coglioni E' la stessa tentazione che viene a me caro David Cioè da quando sono in azione questi di ultima degenerazione, di ultimo rincoglionimento Chiamateli un po' come volete, potrete aggiungere a ultimo quello che volete Sono tentato, sono tentato dalle peggiori nefandezze inquinanti Dalle peggiori nefandezze inquinanti E ti faccio solo un nome Ma ti sembra un ragionamento corretto Il professor Franco Battaglia Ma cosa c'entra battaglia Cosa c'entra battaglia rispetto a milioni di scienziati del mondo Me ne fotte Me ne fotte Guarda, proprio sul sole 24 ore Climate Change, Banca Mondiale Così la transizione energetica aiuta lo sviluppo economico Ma ragazzi, ma più di così cito dal nostro giornale Dal nostro giornale, Banca Mondiale Così la transizione energetica aiuta lo sviluppo economico Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Vabbè Allora, eravamo con Sandro da Milano Sandro da Milano ci stava facendo un quadro piuttosto oscuro Sandro è un idiota No, non puoi dire una cosa di questo Non puoi dire una cosa di questo Sandro è un mitomane idiota Stava dipingendo un quadro oscuro delle cose accadute in questo paese Sandro ha la stessa attendibilità che ha il ministro Lavrov Quando parla di pace Ha la stessa attendibilità Proprio pochi secondi Il ministro Lavrov ha detto che la Russia vuole che la guerra finisca il prima possibile Ora, è attendibile il signor Lavrov, secondo te? Signor ministro, grazie Allora, scusi, Sandro da Milano Lei pensa oggettivamente che il signor Moro sia stato assassinato dai poteri forti? Ma come pensa? Ma ascolta una cosa, ma sei l'unico appartamento che hanno trovato chiuso Sono passati avanti Ma te l'hai letta la storia di Moro? O quel notte? Sì, la conosciamo Quell'altro tuo, il vicino te E' il lato della buchessa e via Sappiamo tutto No, non sei un cazzo Non sei un cazzo Perché con Moro lo sta Non sei proprio un cazzo di niente Come con Ustica Gli aerei volavano senza trasponder Come cazzo fa un aereo a volare 6-7 aerei senza trasponder Ma come fai tu ad andare in giro senza il cervello? Ma come fai tu ad andare in giro senza il cervello? Sai perché mi piace parlare con te, Parenzo? Perché io mi piace quando mi offendi Sai perché? Perché mi onora questa cosa Siccome tu sei senza argomenti Non puoi fare altro che offendere Perché tu non hai argomentazione Scusa però Sandro Oggettivamente uno che pensa che dietro all'omicidio Moro Ci siano i poteri forti Roshild Che hai detto prima Il club di non so che cose Oggettivamente uno si può anche incazzare Oh ma l'ha detto il magistrato L'ha detto Palamara Cazzo che c'è su tutto Ma l'hai sentito l'intervista di Palamara L'hai sentita? Ma l'hai sentita? Carlo Palermo Palamara non credo Palamara non credo che l'abbia detto Palamara No no Sto dicendo Non hai sentito cosa ha detto Cosa ha detto Non è merito questa cosa L'altro magistrato Carlo Palermo Ha detto che Il club di Roma Quello che l'ha fondato Che c'è Era nominato il genocida Il genocida E poi tu dici come mai È venuto fuori questo cazzo di virus Hai capito? Che c'entra il virus? Che c'entra il virus? Che c'entra il virus? Ma scolta Putin ha detto che sta denazificando l'aria È tutto collegato È tutto collegato Non capisci che è tutto collegato E i bio-laboratori Tu mi spieghi come cazzo L'hanno fatto a fare due prodotti finanziari Pandemic Bond E Catastrofe Bond È tutto collegato Ma è tutto collegato Ma certo È tutto collegato È tutto collegato Ciao È tutto collegato In quella tua testaccia di cazzo Eh sì Eh sì Ma mi piaceva molto Sandro da Milano È un bomber assoluto No a me per nulla Un bomber assoluto Un grande bomber Un grande bomber E non si può continuare a dare la voce Dalla provincia di Monza Davide della provincia di Monza Dare credito Dare guazza a queste persone Non si può Mentre voi parlate Di cazzo di orsi Che ci saranno Più neuroni nella testa di Parenzo Che orsi in Italia Parlate del cambiamento climatico Che sono qua a Monza E mi si stanno girando i coglioni Magari ci fosse il cambiamento climatico Fa caldissimo Fa freddissimo Un freddo fattuto Voi non parlate Non parlate della strage Di bambini Che avviene ogni giorno E vabbè Parenzo Posso aspettarmelo Ma da te non me lo posso aspettare Ma da te non me lo posso aspettare Tu che difendi diritti Tu sei a favore dell'aborto Sei a favore dell'aborto Giuseppe Certo che sono a favore dell'aborto Non c'è manco da dirlo Certo che sono a favore dell'aborto Ma come non c'è manco da dirlo Non c'è manco da dirlo Ma come faccia dirlo E certo E' arrivato Della donna Sì ci sarà il diritto della donna Che vuole Ma la strage Dove è la strage La strage Ma che sei un giovane adinolfi Sei un giovane adinolfi Ma non sei un giovane adinolfi Ma scusa Ma tu per vista la realtà Sei poverente come tutti Mi lasci basito su questa cosa Giuseppe Mi spiace dirtelo Ma come fai Scusami Com'è che ti chiamano a te Vengono uccise delle persone Vengono uccise delle persone Vengono uccise delle persone Allora Gallo Tognazzi Scusami un attimo Gallo Tognazzi Gallo Tognazzi Un bambino handicappato Allora lo posso uccidere Questo è il discorso Ma che hai detto Che un bambino handicappato Lo posso uccidere La donna ha diritto Entra un certo termine E anche oltre un certo termine Per motivi Diciamo medici Gli stati Gli stati lo decidono Porca la gran puttana Gli stati Spesso i cittadini Nei referendum E la democrazia Se la democrazia non ti piace Vai a vivere In un altro paese Ma no Vabbè Questo può anche essere Ma scusami un attimo Se la democrazia decide Che è giusto uscire le persone Ma non è come Evidentemente Evidentemente Davide Neo Anti-abortista Molto giovane Perché mi sembra Che tu sia molto giovane Quanti anni hai Davide? Molto giovane insomma 27 27 anni 27 anni Sei abbastanza giovane E siamo contenti Che tu ascolti Questa disgraziata Trasmissione Però il punto fondamentale È uno Tu sei anti-abortista E Paragoni L'aborto A un omicidio O l'omicidio Ma non è un suo diritto L'errore Questo è l'errore È un suo diritto Sono delle persone sì o no? Ciao Ciao Davide Alberto provincia di Venezia Dai 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 Dimmi dimmi Perché dai 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 Sì dai 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 Sì ma non c'è fretta Alberto dimmi Alberto dimmi Vedi che metti tu fretta E impedisci la riflessione approfondita Non si vergogna andare avanti Ancora a difendere i vaccini Perché è una cosa allucinante No Il contrario Alberto Ma il contrario Il contrario Anzi Perché adesso Con tutto quello che viene fuori E tutto quello che spera Il contrario Non mollare Ma tu andavi avanti Ancora con la carica virale No amore Ascolta mi tesoro Ora viene a fare una notizia Ancora più bella Grazie al famoso MRNA Altra cazzata di propaganda È una vergogna Che voi avete tanto Si potrà avere dei vaccini Contro il cancro È in corso uno studio Fatto da Moderna Fatto da Allora io ti auguro Di non doverlo usare Tra qualche anno È una buffonata Una cosa propagandistica Una cazzata A propagandistica A propagandistica Veramente Cioè Mi sembra impossibile Una persona intelligente Come te Io vi auguro Io vi auguro Un domani Di non dover fare ricorso Ai progressi della scienza Ma che c'entra Ma non è che se uno Prende delle medicine Io vi auguro Io vi auguro Le medicine Che abbiamo in commercio Sono tutte nate Grazie Alla ricerca Alla ricerca Parliamo Di vaccini Non sono vaccini Ah non sono vaccini Ma cosa No Ma prima una dose Dopo due Prima c'è la stragenica No scusami Quindi tu parli del vaccino Del covid O dei vaccini in generale Imbecille Scusami Imbecille Parli di quelli del covid In generale Perché i vaccini del covid Sono frutto Della ricerca scientifica Di questi ultimi anni Ma tu Tu non fai altro Che offendere Perché è impossibile Ma è impossibile Parlare con voi complottisti È impossibile È impossibile Grazie Alberto Avanti tutto Mai mular Mai mular Mai mular Vai Allora Io direi Ebbè è il momento Di chiamare Bambalau ragazzi Chiamiamo Bambalau Vai Vai con Bambalau Vai 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 Parezzo parlaci tu però Sei tu che tieni Tieni le fila Tieni le fila Di questo grande rapporto Di questo grande racconto popolare Bambalau Campo Rom La barbuta Uno che si è autoproclamato Lo ricordiamo Per chi non l'avesse ascoltato Le precedenti puntate Autoproclamato Presidente del tribunale dei Rom E che dice sostanzialmente Che il problema Delle borseggetrici Rom È che le donne Non riescono ad essere Controllate dagli uomini Signor Bambalau Bambalau Vai Facciamo il numero Pronto Dottor Bambalau Qui Radio 24 Parenzo carissimo Come stai fratello mio? Sto benino Non sta molto bene Non mi sento molto bene Ti giuro che non sta bene Mi fa male la gola Ti fa male la gola Perché hai partecipato Da Del Debbio Per quello ti fa male la gola Perché ti hanno fatto urlare No perché io ti volevo Qui in studio Radio 24 A Roma Qui al mio fianco Nella plancia di comando A raccontare la bellezza Di che cosa vuol dire Governare un campo Rom Quando puoi venire? Riciamami questi giorni Non lo so Se sto bene Vengo Eh ma fratello mio Ti sento veramente Ti sento sofferente Questo mi dispiace moltissimo Mi fa male la gola Ha preso un po' di medicina Speriamo che Mi passa questi giorni Eh certo Noi confidiamo nella scienza ovviamente No? Le medicine I vaccini Le case farmaceutiche Stiamo dalla parte di Non c'è dubbio Non c'è dubbio Ma Va bene E quindi Ci sono novità lì nel campo Con le donne Come facciamo per Tenere sotto controllo La situazione La mia opinione È questa Sì Sì Le donne Rom Soprattutto le ragazzine Sì Quelle che hanno 17 18 Sì Tra 17 16 20 21 Non li puoi fermare Caro mio O li mandiamo via Dall'Italia O li lasciamo Perché non si possono Creare spazi Per fermarli Una modalità Di trovare Qualche strada Che li ferma Dicendo Dicendo Mi ha offerto Il Stato Italiano Una casa Un stipendio Un lavoro Molto bene Una scuola Non lo so che E mi devo Se ha la coscienza Sana e pulita Mi devo fermare Non devo rubare Non devo rubare più Basta Bravissimo Solo così Li puoi fermare Eh lo so Io penso che tu Dovresti avere un ruolo Nel governo Di Giorgia Meloni A fianco del Dottor Piantedosi Dovesti avere un ruolo Di primissimo piano Io penso Primissimo Allora caro mio Non mi permetto E devo andare In politica Ma Un governo Rom Eh sì Italia C'ha bisogno Un governo Rom Sono d'accordo Sono guarda Sì sì Ci vuole un governo Rom Non c'è dubbio Allora io ti aspetto Qui in studio In uno dei prossimi giorni Dottor Bambalau Va bene? Va bene carissimo Riciamami domani Dopodomani Che ti posso dire? No intanto No Avanti tutta All'attacco Bambalau All'attacco Ciao caro Ciao carissimo Ragazzi è una cosa incredibile Dottor Bambalau Però Ha detto che ci vuole un governo Rom Sì Ha detto che ci vuole un governo Rom Ha dato la notizia Un governo Rom Ha dato la notizia Vuole un governo Rom Ma è con noi Gianluca Brambilla Imprenditore Buonasera Buonasera Ciao ragazzi Ciao 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 Di solo Brambilla La notizia No ma è fondamentale L'opinione di Brambilla Perché è sempre controcorrente No è fondamentale per nulla Ma cosa è questo? Ma chi è questo? Producesse gelati E non rompesse le balle Ma è interessante la tua Producesse gelati E non rompesse le balle Governo di Rom Vergognati Esatto bravo Producesse gelati Vergognati Possibilmente buoni Producesse gelati E non rompesse le balle Ma in Romania tu Parenzo Parenzo vai a fare Suo governo in Romania Producesse gelati E non rompesse le balle Andiamo avanti Scusa Leggo Andiamo dunque Scusami Prima di affrontare la questione Di quelli che hanno sciolto Nell'acido per sbaglio Una persona È un caso incredibile Con la giustizia italiana Con la giustizia italiana Che tentenna Con la giustizia italiana Che non sa che fare Questi sono stati Non hanno manco Confessate loro Hanno scoperto Li hanno scoperti 20 anni dopo Che hanno sciolto Nell'acido Per sbaglio Una persona E c'è la possibilità Che non prendano Nel gastolo Ma il produttore di gelati Così ne frega Sai come scoperti La notizia mi ha turbato Esatto Mi ha turbato Aspetta Aspetta Parenzo Aspetta La notizia mi ha turbato Perché è una notizia Che dimostra Come gli esercizi Di civiltà giuridica Come piacciono a te Parenzo Poi fanno crescere Questa fauna di mostri Capito I gelati del Bramvilla E che continuano a rimanere In circolazione Capisci E a 20 anni di distanza Questi addirittura hanno I sensi di colpa E pensano Eticamente Di essere intelligenti A dire Dobbiamo risarcire I parenti Delle vittime Ma tu pensa Che follia siamo Parenzo Ma tu lo fai Il pistacchio O no Ma lascia perdere L'unica cosa Di cui vi ho Voglio sapere Mi interessa solo questo Ma perché Le devi buttare Non hai presa la Laura Parenzo Mi interessa solo Ma ti ho chiesto Il gelato al pistacchio Io ne ho due di Laura Tu quante laure hai Ma spiegami Come fai il gelato al pistacchio Ma perché ti arrabbi Fai il gelataio Spiegami Come fai il gelato al pistacchio Invece di parlare Nell'universo mondo Spiegami Ma perché ti arrabbi Mi vuoi spiegare Come si fa il gelato al pistacchio Spiegamelo Come lo fai Non voglio parlare Del gelato al pistacchio Voglio parlare Del dolore Come si chiama La tua gelateria E tu la butti Sul gelato Ma no Ma a me non mi interessa Non mi interessa In alcun modo Ha ragione Non provi nessuno Io non farei mai intervenire Brambilla Sulla persona sciolta Nell'acido Non mi interessa Il parere di Brambilla Non mi interessa Mi interessa Il parere di Brambilla Sulla stracciatella Ad esempio Voglio sapere Ad esempio Sulla nocciola Che nocciole usa Questo mi interessa Questo mi interessa Non sapere il suo parere Su chi è sciolto Nell'acido L'indignazione L'indignazione Di una persona Ma quale indignazione Ma chi se ne frega Ma veramente Ma ora che sono veramente Mi ha sotturbato Sentire questa notizia E io inciso Questa gente Va lobotomizzata Lo va uccisa Non va a mettere in carcere Bisogna lobotomizzarla E ridarla alle loro famiglie No? E dirgli Ecco come finisce Chi scioglie nell'acido Le persone Questa è la fine Che deve fare Chi scioglie nell'acido Le persone Perché per Parenzo Non è un reato Sciogliere nell'acido Le persone Questo è scemo Lui la butta sul gelato E capisci Vedi come è stupido Parenzo Sulla tua attività Sulla tua attività Tu sei stupido Anziché parlare Anziché parlare Di cose di cui non sai Parla di quello che sai Cioè come si fa Il gelato alla nocciola Ma cosa dobbiamo sapere Ed è efficiente Tutto è efficiente Visto che Ma perché se io metto Brambilla gelato Non è cazzo Ma tu sei mai finito Non è cazzo Ma come mai No però Scusami No finito no Sono andato a vederlo Sono andato a vederlo No però Brambilla gelato Quando parli di me Però scusami Quando concivi il cognome Brambilla Devi lavarti la bocca Però c'è una cosa fondamentale C'è una cosa fondamentale Tu andrai a festeggiare Per esempio il 25 aprile È una festa che non ti interessa Brambilla 25 aprile Non l'alberazione Ma sai quanti gelati vende Per il 25 aprile Gli conviene? Eh È una giornata per me Neutra perché Non è una giornata di pace No E che cos'è Non è una giornata di riconciliazione Fa anche lo storico fa adesso Fa pure lo storico Fa gelati Si occupa di gente Soltà dell'acido Non è un'opportunità Questo festeggiamento Non è un momento Per stringerci la mano E dire Signori Ormai sono facciati 70 anni Cerchiamo di tirare una riga Guardiamo avanti Perché se no Nel nostro paese Basta Non festeggiamola più Aboliamo 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 il 25 aprile Come festa Dice Il venditore Il venditore di lampone Di gelato al lampone No no però Calma 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 Sempre con questa stracqua La cosa fondamentale è questa Hai già detto L'obotomizzati Secondo te E la tua ricetta Che potrebbe essere Anche una ricetta Da percorrere Per quello che riguarda Quelli che hanno sciolto Nell'acido Parenzo Nell'acido Non ti interessa Ma io uno che scioglie Nell'acido Mi viene Mi viene Ma tu parla Ma chi ne è di quanto Sto povero Cristo Che hanno sciolto Nell'acido Ma tu parla Di quello che sai C'è un cazzo Ma che c'entra Questo è Ma che questo è Gelato al cioccolato Eh certo Passiamo per l'anno Il Bramilla Lo ha inventato Gelato al cioccolato Dolce un po' salato Quel coglione Del Bramilla Lo ha inventato Ma è un poco taroccato Un poco taroccato Ma che Ma questa è la canzone Ma stiamo parlando Di gente sciolta Nell'acido Stiamo parlando Ma con Bramilla Non puoi parlare Di un tema serio Come questo Si occupasse Del gelato al cioccolato Del pistacchio Del lampone Nella stracciatella Non ho messo i coglioni Sul 25 aprile E un coglione Pareggio Tu roveri Italia Il Bramilla L'hai inventato Il gelato al cioccolato Il Bramilla L'hai inventato Il gelato al cioccolato Chiedo scusa a Pupo Caro mio Chiedo scusa a Pupo Chiedo scusa a Pupo Chiedo scusa a Pupo Dai andiamo avanti Chiedo scusa a Pupo Non so di te Perché dappolizza proprio Dei loro valori Delle loro tradizioni Della loro antropologia È impossibile Integrare Una donna Che continua a rubare Che dice Il mio lavoro È rubare agli italiani Metropolitana I loro portafogli E si sente impunita Perché siamo in uno stato Dove una donna Che reitera Un reato Che continua a rubare A reiterare un reato Sì va bene dai A reiterare un reato E noi continuiamo a dire Prego questa signora Non deve avere neanche Neanche essere mandata In una casa di accoglienza Neanche essere isolata Cosa devo fare? Vai isolata dici? Vai isolata Vai isolata Ma come minimo Vai isolata Ma come minimo Sì Non sia riducabile Non sia consettualmente Riducabile Capisci? Questo è il dramma Ma che c'è Ma perché sei pissato Con questa cosa? Gelato al cioccolato Il Brambilla L'ha inventato E poi L'utel L'ha inculato Gelato al cioccolato E Brambilla L'ha inventato Ti farò mangiare Il mio gelato Rimarrai senza parole Ma sei un personaggio Grottesco Rimarrai senza parole Perché io faccio Gelato agli ultrasuoni Sono il primo in Italia A fare il gelato agli ultrasuoni O forse non lo sai Come qual è la ricetta Del tuo gelato al cioccolato? Forza Qual è la ricetta? Anziché parlare Dei rom Che non sono integrabili Anziché dire minchete Gelato Io faccio il gelato agli ultrasuoni Io sono l'unico gelatario Che fa la cavitazione Nella mischiera del gelato Che cazzo è Il gelato agli ultrasuoni E' un gelato speciale Caro mio E' un gelato agli ultrasuoni Io ho studiato Parecio Non ho come te La quinta elementare Capito? E io sono capace Di fare gli ultrasuoni Caro mio Tu non hai neanche Un'idea Di cosa sono gli ultrasuoni Parecio Sei una bestia Sei un inferiore Te l'ho già detto Dai al tuo posto Parecio Non parlare di cose Che non stai Gelato agli ultrasuoni Vai Gelato agli ultrasuoni Tu mi hai salato Il gelato agli ultrasuoni Ma vaffanculo Vaffanculo Bravo Parecio Fammi pubblicità Parecio Bravo Parecio Pubblicità Imbecille Imbecille Tu hai il gelato agli ultrasuoni Non glielo dovevi dire Gelato agli ultrasuoni Non glielo dovevi dire Posso garantire Che il gelato agli ultrasuoni Beh piacciono le innovazioni Ragazzi Ti piace il geramanco Ho capito Ma il gelato agli ultrasuoni Uno dice Che cazzo è Un'innovazione È una stronzata Vuoi fare anche il gelato alla merda Anche quella è un'innovazione Vieni a provare il mio gelato agli ultrasuoni Che ne hai conto Ma che cos'è che suona? Cosa che suona? Finalmente vi sento adesso Cosa che suona è un gelato agli ultrasuoni Gelato agli ultrasuoni Ma non hai conto Non voglio lo saluto Il gelato agli ultrasuoni Metà Da 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 È veramente un'iggio Una carrellata di idioti Ciao ciao Brambi Aspetta un attimo Fermo là Fermo là Ti hanno sempre detto Che la vita è tutto un compromesso? Non con Opel Oggi Scegli Mokka Un design audace La tecnologia che desideri E zero compromessi Mokka è tuo Con anticipo zero Da 249 euro al mese 35 rate mensili O 18.000 km Rata finale 15.979 euro Da 9.95 Taeg 11.76 Con scelta Opel Fino al 30 aprile Offerta soggetta a limitazioni Solo presso i concessionari aderenti Info su Opel.it No, no, no Così non va Sei in difficoltà A trovare l'accordo giusto? Affidati a Varab Lo specialista della supply chain Capace di digitalizzare La tua rete di relazioni commerciali E i tuoi flussi interni Trova gli accordi giusti Per il tuo business I tuoi processi Saranno più semplici ed efficaci Qualunque sia il tuo IRP Varab è la chiave Varab è un'azienda di Var Group Il nome proprio dell'innovazione Questa sì che è una vera sinfonia Il giorno 9 Sono le lady 60 Con le telcancio è tanto assimilabile E il suo sogno è trascurabile Le gran mossa per le tue ossa Acqualete Ottima mossa per le tue ossa Il premio Oscar Jean Dujardin Ultime informazioni Ci sono due terroristi in fuga da Parigi Voglio che chiunque si sia comportato in modo strano Nelle ultime 24 ore Sia sorpegliato a vista November I cinque giorni dopo il Bataclan Io so dove sono i due terroristi Dal 20 aprile al cinema Chi ti conosce da una vita Sa che sei una buona forchetta Che sporcarti è la tua specialità E ti emozioni ogni volta Anche Foxy vuole farsi conoscere E raccontarti di come i suoi prodotti Rispettino l'ambiente Che l'energia elettrica che impiega è solo da fonti rinnovabili E che le sue confezioni sono 100% riciclabili È tutto sull'etichetta trasparenza Perché Foxy per te Non ha segreti Sì? C'è un problema con lo stoccaggio dei colli Ingegnere, l'audit per la sismo resistenza C'è una soluzione per gli scappari Ah e poi la cerca urgentemente il responsabile automazione Tenere tutto sotto controllo è sempre più difficile Almeno la logistica falla facile Per la tua azienda affidati agli esperti del magazzino E dello stoccaggio intelligente Pretendi il top Scegli ModulBlock ModulBlock.com Perché usare Ticket Restaurant? Ve lo spiego io Per affettare le verdure Come segnalibro Per stappare le bottiglie Ma cosa fai Valerio? Fanne buon uso Hai ragione Ticket Restaurant aiuta aziende e liberi professionisti A risparmiare E lo usi ovunque Anche per la spesa Fanne buon uso Scopri di più su TicketRestaurant.it Questo programma Può contenere riferimenti espliciti E si rivolge ad un pubblico adulto E non è adatto ai minori La zanzara Parenzo Fai schifo a difendere le borseggiatrici figa Fate schifo cazzo Fate schifo In televisione In galera devono stare In galera Chi ruba Cosa cazzo sta diventando questo paese qua Il paese dei balocchi Il paese delle scimmie Ma andate a fare il culo tutti Giuseppe Io ti ho sempre supportato Per me sei il numero uno Ma su sta questione del cambiamento climatico Mi hai viscia di fuori In una maniera incredibile Secondo te Le alluvioni Le frane I cicloni di una violenza inaudita Le alluvioni che generano vittime Da che cazzo sono provocate Pensaci due volte va Allora ragazzi Ho fatto rimanere qui Sio Brambilla Perché voglio dare un annuncio Il primo annuncio è questo Avremo il 26 di maggio Il venerdì 26 di maggio A Trento Nel nostro live Al Festival dell'economia Ci hanno voluto per il secondo anno Dunque evidentemente serviamo a qualcosa In ogni caso In ogni caso avremo una Praticamente da fare Come nostra guardia del corpo Come nostra guardia del corpo Uno dei grandi personaggi zanzareschi Non voglio anticipare nulla Ma ci farà da guardia del corpo Per tutto il percorso Per tutto il periodo Da guardia del corpo personale Mia e del signor Parenzo Un grande personaggio zanzaresco E non c'è persona più appropriata Per farci No ma no Bambalau non lo so Ecco io penso che Bambalau Debba mettere piede ad esempio a Trento Quella sarebbe una grande Un'occasione d'oro Per averlo col pubblico E invece voglio anche dire Voglio anche dire un'altra cosa Che quel tipo di gelato Che è il prodotto del professor Brambilla Dovrà essere portato in quel di Trento Per un assaggio Questo è fondamentale Promesso Promesso Grazie Gianluca I maestri artigiani Producono gelato Senza fare le vibrazioni Cos'è che fai? Ma che grazie Attenzione Massimo da Roma Qui siamo al top Qui siamo al top assoluto Massimo dimmi Ciao Ciao Buonasera a tutti Ciao Massimo da Roma Massimo da Roma Specifichiamo Ascoltatore della zanzara anche lui Però Leggo qua Marito di Anna da Roma Parenzo Siamo allo Strato Ti assicuro che siamo al top assoluto Al top assoluto Grazie Ma che bella famigliola Ma che bella famiglia Che non ha un cazzo da fare Telefona solo qui Eccoci qua Volevo salutare Che adesso è il presidente Abbiamo No Sumauro Abbiamo Abbubacar Sumauro Che non è indagato Sumauro Sumauro Non è indagato Sumauro No 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 Lei si prende la querela Lei si prende la querela Perché non è mai stato indagato Esatto Non è mai stato indagato Fino ad oggi Mai indagato Io ho mia moglie Che ruba 10 milioni E non me l'accorgo Ma che cazzo Non c'è nessuna condanna di nessuno E il signor Sumauro La moglie è indagata La suocera è indagata Calma Calma Lui non è indagato E lui ti farà nero Lui ti farà nero Ti farà un culo così caro Così Non posso dire volgarità No Perché non è indagato Non è indagato Calma Qui non si dà del ladro a nessuno Perché il signor Sumauro Uno può criticarlo politicamente Ma io l'ho ripetuto mille volte Non è indagato Non lo voglio dire chiaro e tondo Uno può criticare politicamente una persona Come vuole Assolutamente È stato massacrato Oltre che criticato È stato massacrato È stato impiccato Ma quello Ma è non esagerare È stato metaforicamente impiccato E comunque Non si può dare del ladro a qualcuno Quando non è nemmeno indagato Per aver rubato un portafoglio In metropolitana Diciamo Io dico che è indagato Ma non è indagato di lui Ma anche fosse indagato Ma lei dice una follia Ma lei dice una cosa falsa La persona del genere Non può stare in Parlamento Ma quella è un'altra cosa Non è indagato Non è indagato Ma non perché è nero Che non me ne frega un cazzo se è nero Non perché è nero Non me ne frega un cazzo se è nero Non è indagato Hai capito? Non può stare Ma questo è legittimo dirlo Non è legittimo dire che è un ladro Perché non è assolutamente un ladro Questo lo vedremo Ma che vuol dire Il piano da Roma è esattamente come Ma sono rubato Ciao Massimo Ciao Massimo Ciao Ciao Alessandro da Roma avanti tutta ragazzi avanti tutta il momento di Anna da Roma bugiardo come Lavrov perché Lavrov oggi ha detto che vuole che la guerra finisca presto bugiardo come Lavrov è un auspicio dobbiamo attaccarci anche a questo auspicio ma quale auspicio che continuano a bombardare a distruggere parlo col programma dritto Zanzara ma vai a cagare o Zanzara è rovescio ma quale Zanzara è rovescio povero credito al pralatto vorrei fare una denuncia sono stato messo vinto in linea a ascoltare a un ubriacone veneto e b un razzista rotto in culo ok sarebbe il marito di Anna il marito di Anna un razzista diglielo in faccia al marito di Anna che è razzista diglielo in faccia diglielo in faccia al marito di Anna che è razzista non era il solito camionista veneto che chiamo era Brambilla no ma Brambilla ti riferisce signor Brambilla vergognati 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 signor Brambilla è un prenditore serissimo serissimo prenditore serissimo vabbè ma a proposito di ubriaconi qualche giorno fa al tuo famoso programma dritto e rovescio il signor Feltri il tra virgolette direttore del tra virgolette giornale ha detto ciò non è il giornale ma è il libero è il libero libero comunque andiamo avanti dai allora gli ha detto ciò che cosa che cosa ne pensi della Celine ma io non penso niente a me mi sta solo sulle palle vabbè è legittimo no è legittimo che possa stare su quegli è legittimo è legittimo è legittimo il giornale dica ciò è normale ma tu ti rendi conto di che si è depone le nostre istituzioni ma voi chi ma voi chi perché è quello come voi chi Feltri rappresenta se stesso oltre che fratelli d'Italia la regione Lombardia che cosa vuoi ma tu hai mai non lo votare ma non lo votare non lo votare che te ne frega te ma come se lui fanno un'intervista a qualsiasi altro giornalista che cosa ne pensi della Meloni ma mi sta fu cazzo così ma che cazzo ma che ragionamenti deve allora deve stare a casa deve sciacquare la tempiera e deve dormire e basta si rimanda la minestrina calda e questo devi fare perché comunque superato una certa soialità ho capito ciao ciao Alessandro ciao ma c'è un grande ritorno caro David grandissimo ritorno in collegamento da Vicenza Michela Monellato buonasera buonasera a tutti mi siete mancati come andiamo ma come andiamo come andiamo dove è l'inno americano ah volevi l'inno americano ma tu scusa però abbi pazienza tu sei sposata sposata con un militare americano perché il matrimonio in questi mesi che non ti abbiamo sentito non si è crollato miseramente ma non credo no non credo no no c'è stato un momento così di defiance per il marito si è riattivato in che senso defiance scusa perché mi piace io amo le attenzioni appena mi manca un po' l'attenzione poi ti ha scopato meno non ho capito eh meno sì ma sai parliamo d'altro parliamo di cose serie che stanno l'avrà beccato con un'altra ecco dopo un po' questa ha rotto no poverino stai tutta la vita con questa era scassa cazzi di primo livello ma ragazzi questa qua è proprio un gatto delle mutande è questa cioè tu stacci tutto il giorno con questa ti credo che ti viene voglia di bombardare l'Iraq ma io lo capisco il militare americano che a un certo punto dice beh facciamo la guerra in Cosmo facciamo la guerra in Libia facciamo la guerra da qualche parte perché stare a casa tutto il giorno con questa matta tale ma no ma no lui matta matta globale lo ha sputtanato in lungo e in largo gli ha creato solo casini al dipartimento di stato americano ma è una pazza scatenata è giusto è giusto che abbia me al suo fianco fidati Davide però scusami un attimo c'è una cosa fondamentale che voglio chiedere allora gli avrà messo quintali di corno ovviamente ma l'ha fatto solo che bene la signora Morellato la signora Morellato è fortemente anti Biden anzi lo considera rimbambaide non sbaglio rimbambaide che bello esattamente è una vergogna globale per il popolo del fondo suo marito è al servizio ma cosa dice suo marito serve il potus non è nemmeno capace a fare un discorso un buffone c'è la moglie di un soldato americano dice che potus che siamo altro che quello che dice la minestrina al povero Feltri che invece è ingambissima questo è un decerebrato è una persona che è incontinente facciamo ordine la signora Morellato che è la signora Morellato che è una sporcacciona di primo livello perché anche questo è e ha sposato un soldato americano ma è una sporcacciona che mette in piazza tutto quello che fa che dovrebbe essere riservato con un militare che lavora nella base americana di Vicenza zona delicatissima perché da lì si giocano i destini dell'area del Mediterraneo attacca direttamente potus il cui acronimo vuol dire President of the United States of America attacca direttamente signor Parenzo ma non dovrei essere io che faccio la morale diciamo dovrebbe essere il presidente Meloni che non si deve accompagnare con certi individui la storica alleanza la storica alleanza Italia-Stati Uniti perché c'è Biden la signora Meloni che deve fare si è attaccata al carro di Biden è comprensibile pure ma meno male ragazzi questo non le fa onore mi dispiace devo dirlo ma chi si frega non è solo il mio scusi siamo relato dunque lei però da questo punto di vista è abbastanza chiara lei non sopporta né Biden che ha chiamato rincoglionito eccetera eccetera né Sior Zelensky mi sembra mi sembra di dire ma Zelensky poverino io non ho niente da dire perché non lo seguo e non penso che penso che sia diciamo un pupazzo un pupazzo nelle mani degli americani molto bene poverino mi fa anche tenerezza che va in giro con la magliettina da mesi non lo so non ho molto da dire sul signor Zelensky invece avevo qualche informazione riservata da raccontare a voi che infatti era molto importante ma l'avete visto l'arresto della talpa negli Stati Uniti? no che talpa ah sì quella talpa là beh allora era un ragazzino di 21 anni e gli americani non sanno più come tappare i buchi da quante bugie hanno raccontato al mondo intero sta dicendo che lei sta dicendo che praticamente è una creatura del pentagono questa qua mamma mia ma ragazzi ma allora ma la sicurezza nazionale americana internazionale era dentro un cassettino di un ragazzino di 21 anni come ha fatto è tutta una bufala è una bufala ma certo ma come certo è tutto un film ma cosa c'è sono rivelazioni importantissime d'altra parte la signora si chiama Michela Morellato Blonsfield che è il nome del marito dunque è legata agli Stati Uniti ha informazioni non dire il marito non distruggere ha informazioni di prima mano ma di nessuna mano ma lo sa tutto il mondo è una barzelletta ma figurati se il marito parla con sta matta delle cose che fa lì segretissima sarebbe bravissima no ma il marito poverino deve seguire gli ordini io invece posso permettermi di dire quello che penso perché siamo in democrazia il suo marito è un mezzo ufficiale un sotto ufficiale importante dell'esercito americano questo bisogna sempre sottolinearlo scusi ma lei è una tifosa di Trump mi sembra una trampiana di ferro certo infatti Trump sabrà il mondo e noi torneremo una grande ondata negli Stati Uniti di gloria e di giustizia grazie al presidente Trump dunque lei pensa che Trump se ci fosse stato Trump questa guerra sarebbe finita in un secondo forse non sarebbe nemmeno mai iniziata beh io io prevedo già come andranno le cose lui vincerà le elezioni si metterà d'accordo con l'Ucraina come ha detto lui nelle sue ultime interviste darà al signor Putin quello che vuole così la smetti di rompere il cazzo perché anche quello non è un primo tutto giusto però tutto il mondo verrà salvato perché ci mettiamo tutti d'accordo e nella sua ottica Biden è un rincoglionito è una una spesa ma non è solo nella mia ottica andate a vedere i video non sono neanche capace di fare un discorso cioè fermi tutti fra poco fra poco morellato contro OnlyFans fermi tutti fermi tutti conosco Ant da molti anni per me è come una grande famiglia perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno i medici gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno però hanno bisogno del tuo aiuto destina il tuo 5 per 1000 vai su ant.it e scopri come fare da Unieuro fino al 27 aprile se compri un nuovo pc fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante hai un rimborso fino a 300 euro anche sui Mac e il tuo vecchio pc lo ritiriamo a casa tua perché Unieuro batte forte sempre dettagli e regolamento su Unieuro trattinopromozioni punto it ogni spostamento ci ispira ogni tragitto ci unisce mentre ruote e ali ci avvicinano dove culture e idee trovano la loro connessione per questo in Italia nasce Mundis per gestire infrastrutture e servizi innovativi di mobilità sostenibile creare collegamenti globali senza farti fermare mai e per dare un nuovo ritmo alla tua vita in movimento Mundis improve moving life puoi tagliare il prato così oppure così goditi un prato sempre perfetto lascia fare il lavoro ai robot tagliaerba Usquarna Automover a batteria silenziosi adatti a piccole e grandi superfici e pensa con Usquarna Automover non devi più raccogliere l'erba vai su usquarna.com WMF we make future la fiera internazionale sull'innovazione tecnologica e digitale ti aspetta alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno start up digital agency fondi di investimento internazionali e aziende dei settori intelligenza artificiale Martech e-commerce e robotica ci hanno già scelto porta anche tu il tuo brand al WMF per maggiori informazioni visita il sito www.wemakefuture.it WMF the place to be dal 15 al 17 giugno alla fiera di Rimini la zanzara quindi capiamoci Davide se io dico che i froci sono fuori natura sono omofobo e offendo milioni di persone se invece dico che tutti gli italiani sono razzisti eh no vabbè ma cosa vuoi mai che abbia detto e teccattacche molto bene spesso gli ascoltatori portano alla ribalta le grandi contraddizioni parenziane le grandissime contraddizioni parenziane assolutamente ma quale non so se c'è Domenico da Rimini vai c'è ancora Michela Morellato incollagata naturalmente Domenico da Rimini vai Domenico dimmi io questa sera ciao ragazzi parlo della spiaggia di Rimini volevo ringraziare Parenzo perché ha gettato la maschera è un antifascista di destra estrema beh adesso destra estrema praticamente prima parlando ma te hai usato sì adesso te lo spiegheranno a casa perché è stato un antifascista che hai avuto probabilmente a scuola di destra estrema spiegami perché perché quando ha usato un tipico linguaggio avverso al bottegaio il gelataio la nocciola la sua avversione avversione all'impresa anche alla piccola impresa anche alla piccola non so se è piccola o grande l'unica cosa di cui doveva parlare era quella eppure non ne ha parlato Parenzo te ci sei tutti i giorni io ci sono due minuti fammi finire due di troppo è quel tipico razzismo che tutti abbiamo conosciuto dalla prima elementare per tutte le scuole ma usa le parole giuste e quale razzismo ma non usa le parole corrette attaccava Brambilla per secondo lui per la sua inadeguatezza a parlare di certi argomenti ma no ma perché diceva il bottegaio di primo livello ma quale il bottegaio l'imprenditore del gelato in sintesi il bottegaio l'imprenditore del gelato l'imprenditore del gelato arriva lui a produrre il gelato è quella forma di razzismo che tutti noi abbiamo conosciuto nelle scuole dell'obbligo che è il figlio di io ho il grande il figlio del bottegaio poveretto è il figlio del bottegaio questa è una sua sciocca illazione e ne risponderà in tribunale ciao Domenico grazie sciocca illazione allora Michela perché secondo te queste che fanno l'infanzo sono delle poverette diciamo così perché questo è un po' il sintesi del tuo pensiero se non sbaglio no vabbè ma io non penso poveretti io dico solo che una persona che fa questo mestiere chiamiamolo mestiere è una persona che ha bisogno di soldi per mantenersi giusto? questo anche oppure vuole fare più soldi vuole fare più soldi di quelli che ha facendo comunque una vita che è basata stando al telefono tutto il giorno non si gode il tempo cioè io sono 20 anni che non faccio un cazzo perché per me il lavoro più bello del mondo è la mantenuta ormai la only part questo è molto bello questo è molto bello perché perché queste donne tu dici da 20 anni hanno rotto il cazzo cioè in che senso queste femministe che hanno portato la distruzione di noi vere madri moglie nel mondo nel senso la mantenuta è il goal di ogni donna non fare un cazzo anche lavorare magari tu stai dicendo che fai la mantenuta da 20 anni e te ne vanti e tutte le donne dovrebbero avere questo obiettivo perché queste si vantano di fare tra virgolette le prostitute online e io non posso mi dovrei vergognare di dire la verità che me la godo e me la spasso non faccio milioni di dollari cosa fai tutto il giorno non faccio milioni di dollari per carità ma mi godo il tempo mi godo i figli mi godo la vita ho capito ma te lo puoi permettere metterai le corna al marito cosa fai tutto il giorno una così sannoia o poi comunque sempre grazie agli americani che diciamo anche loro mi stipendiano perché il governo americano anche loro mi mantengono sono molto gentili per questo su cui sputi beh ho capito lui le sputa su Biden non sugli Stati Uniti considera gli Stati Uniti anche in modo un po' negativo diciamo la verità dai su non è che li consideri ci sono i pro e i contro l'unica cosa di negativa che sono delle persone che vogliono normalizzare la pedofilia portando tutte queste chi vuole normalizzare la pedofilia chi vuole normalizzare la pedofilia ma perché portano tutto questo trend LGBT di trans travoni menate dentro le scuole dei nostri figli americani e vanno a dire i nostri figli che gli uomini possono partorire ma da dove partoriscono dal buco del culo hanno dato è una signora hanno dato gli americani come sponsor per gli assorbenti a un travone dove se lo ficca l'assorbente nel buco del culo ma come si per me ma come parla sta signora ma io ti credo che un marito scappa no 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 lei sta dicendo che l'amministrazione Biden e in generale i democratici negli Stati Uniti o comunque nel mondo una certa corrente sta sponsorizzando anche la pedofilia questo non lo so francamente la pedofilia e dopo ti credo che Putin ha attaccato l'Ucraina poverini hanno messo come uno dei capi militari della Navy hanno messo questo travone travestito ma che c'è ma cosa ti diceva ma dov'è non è l'America che io ho amato che amavo dai ragazzi ma perché l'America tu dici ormai in preda alla lobby LGBT ai travoni ai transessuali eccetera gli Stati Uniti sono ormai ma certo ma certo è un disgazio voglio gli uomini con i gis io sono allibito dalle volgarità che ho sentito io voglio gli uomini con il gis con la pistola il pistolone questo che voglio io dell'America queste pagliacciate la signora amorellato il pistolone è una persona della volgarità inaudita ma no ma sta dicendo quello che lei vuole dell'America non vuole la lobby l'UGBTQ questo questo è il punto ma sono le lobby che facciano quello che vogliono ma non toccate i nostri figli fate quello che volete ma non toccate i bambini ma nessuno tocca i bambini ma è pazza questa ma non è vero Davide ti manderò in privato dei video vanno nelle scuole a indottirare i bambini lo sappiamo tutti questo è molto importante l'intervento di questa sera la signora amorellato il suo grande ritorno sta offrendo uno squarcio fondamentale degli Stati Uniti e come no sì assolutamente sì perché lei è estremamente convinta che vuole un'altra America non quella in mano alla lobby l'UGBTQ mi sembra di capire no giusto Michela? no infatti non voglio l'America in mano di Biden Biden deve andarsene e grazie alla nostra amica anche tua amica Giuseppe Tara Reid lo rimanderemo a casa quello non credo adesso mia amica ho sentito una volta per te grazie grazie Michela grazie a presto viva l'America viva la libertà ciao Roberto provincia di Fermo eccoci qui vai vai Roberto ciao Giuseppe ciao ciao dimmi 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 una cosa allora ti sei scherato con i Novavax il 90% dell'Italia si è vaccinata ti sei ti sei ti stai scherato io sono io sono ero per la libertà vaccinale diversa ero contro l'obbligo contro l'obbligo 100 euro 100 euro per l'obbligo 30 mila euro per i ragazzi metti bene il telefono metti bene il telefono metti bene il telefono 30 mila euro per i ragazzi cosa 30 mila euro cosa 30 mila euro 30 mila euro per i ragazzini che imbrattano qualcosa 100 euro per un cazzo di Novavax ma che c'entra quella è una questione di principio che riguarda l'obbligo vaccinale che c'entra quella è una multa la gente moriva in ospedale e beh che c'entra e che c'entra questi andavano in giro e tu cos'è che dicevi oh sì ma bisogna capirli bisogna invitarli sgardi io apro com'era si sono pure presentati in le elezioni adesso di questi ragazzi che magari sbagliano io nemmeno neanche sto tanto d'accordo però a dire 30 mila euro di multa come hai detto prima calci in culo come è che gli ho detto metaforici mai violenza mai violenza metaforici 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 metaforico con loro metaforico però con loro ti permetti anche solo di dirlo è questo il problema che mi fa incazzare ma non ho capito che cosa vuoi Roberto non ho capito bene che cosa vuoi sa che non ho capito io voglio te lo dico io tu hai perso il sentore del paese e io voglio questo che lo ammetti il sentore del paese ma che c'è il sentore del paese io faccio spesso fotografie sento l'umore del paese non lo senti più lo senti tu e quattro stronzi lo capisci eh quattro stronzi 99% delle persone sono con l'orso punto sì ma che c'entra e beh ma non è che sempre bisogna seguire l'onda non è che sempre bisogna seguire l'onda eh questa però è la democrazia amico come hai detto prima che c'entra non è che si decide volta per volta non è che si decide volta per volta cretino non ti piace la democrazia questo è un cretino totale se ne vai in Slovenia vabbè ciao 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 Vito da Bari vai Vito vai Vito Vito buonasera ragazzi avevo trovato il sonno scusate dimmi dimmi niente allora ho sentito prima che siamo stati citati Franco Prudi avete parlato un attimino di cambiamenti climatici non esageriamo adesso non è che abbiamo fatto un simposio no 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 assolutamente ma io sono d'accordissimo con te quando hai detto facciamo un attimino di attenzione a quelli che sono io dico solo una parola per la quarta volta Franco Battaglia fra poco non fra poco fra qualche giorno ospite di lusso alla zanzara professor Franco Battaglia dico solo questo dimmi dimmi Vito altro che niente il punto di fondo qual è che molti dicono che sono i cambiamenti climatici che osserviamo amico mio non ci puoi fare la lezione adesso amico sono le 20 e 28 sono le 20 e 28 sono le 20 e 28 le 20 e 28 sono le 20 e 28 che ci vuole dire questo qua le 20 e 28 niente le 20 e 28 voglio dire semplicemente che i cambiamenti climatici grazie tesoro però dice delle cose vere ma non so non ha detto niente sono passati due minuti ma è due minuti ma di una cosa ma anche un minuto i cambiamenti climatici ci sono sempre stati e sono conseguenza dell'attività solare benissimo ottimo bravissimo bravissimo Silvano da Bergamo fermi tutti Silvano da Bergamo buonasera oh Silvano come stai tutto bene Silvano come stai bene benissimo grazie dimmi Silvano dimmi allora si sta discutendo si sta discutendo di uccidere l'orsa perché ha ucciso questo ragazzo sì sì e invece quegli extracomunitari che hanno ucciso Pamella a Roma l'hanno messo in un trolli hanno preso del gastro però che c'è l'orso invece vanno uccisi ma non vanno uccisi allora l'orsa l'orsa magari doveva dipendere a cuccioli Salvano segnavo però segnalo all'amico Silvano che più volte è intervenuto in questa disgraziata trasmissione che fa l'autista o faceva l'autista il camionista se non sbaglio Silvano da Bergamo per me è indifferente quello che fa mi basta sentire quello che dice non interessa cosa fa le ricordo che in Italia non esiste la pena di morte purtroppo è uno sbaglio ma in questi casi dovrebbe dovrebbe esistere in Italia esiste il fatto che qualunque imbecille come lei può dire qualunque stupidaggine questo è quel limite un rincoglionito si va benissimo ma pensa che paese pensa in che paese siamo calma calma che paese siamo calma calma pensa in quale paese siamo un paese nel quale qualunque idiota può dire qualunque stupidaggine anche sostenerebbe questa però è l'Italia questa è l'Italia e spesso è stato dimostrato come la zanzara è l'Italia questo è il punto spesso è stato dimostrato come la zanzara fosse in realtà l'Italia la rappresentazione plastica dell'Italia si parla lei per chi ha votato alle passate elezioni l'Italia ha ragione secondo lui qualsiasi coglione arriva in modo illegale secondo Parenzo ha ragione e noi siamo tutti cretini sai che è molto più probabile che su quei barconi il 99% di persone che sono su quei barconi sono mediamente hanno il più intelligente di questo imbecine che ha chiamato è molto più facile che su quelle navi ci sia un premio Nobel piuttosto che questo stronzo che chiama è molto più facile è molto più facile che su quella nave ci sia il futuro statista piuttosto che questo imbecine che chiama è molto più facile allora Silvano da Bergamo lei che cosa ha votato alle passate elezioni politiche io non voto più perché quando ci sarà la pena di morte voterò chi metterà la pena di morte va bene fermi tutti Silvano resta lì a darci il tuo prezioso importantissimo contributo a dipingere questo paese non è un contributo sono idiossie fermo là Ford Kuga Plugin Hybrid è tua a soli 395 euro al mese 3.900 euro di anticipo durata 36 mesi e rata finale da 25.365 euro TAN 795 TAIG 911 sai l'offerta memoria? beh è la Plugin Hybrid più venduta in Italia puoi guidarla in elettrico nei percorsi quotidiani e in ibrido nei viaggi più lunghi e dopo tre anni decidi se tenerla restituirla o prendere una Ford tutta nuova ma quindi conviene sì approfittane subito sono solo 395 euro al mese mi chiamo Francesca libera professionista ora lavoro ma durante il lockdown è stata dura Marco operaio specializzato in questo periodo sono in casa integrazione sono Giuseppe ho lavorato 40 anni ora sono pensionato Emma impiegata sono in congetto di maternità sarà una bimba speranze difficoltà progetti la vita delle persone è la vita di una comunità che si chiama Italia perché insieme è tutta un'altra storia IMS da 125 anni insieme con Club Kuwait mi basta un click per trasformare i miei punti stella in quello che preferisco anche in buoni sconto carburante per me mamma sì amore e per me? ci sono tante gift card vuoi pallone da basket nuovo? sì e io? per te ho già ordinato un premio dal catalogo Kuwait con la consegna veloce Amazon inclusa scarica l'app Club Kuwait e scopri le offerte dei premi pensati per te Kuwait muoviti più liberamente Fineco la banca numero uno in Italia per Forbes vi presenta Borse indiretta procede debole Wall Street il Dow Jones segna una flessione dello 0,13% S&P 500-0,22% Nasdaq meno 0,30% hanno aperto in rosso la settimana anche le borse europee a Milano il Fuzzimi va segnato un ribasso dello 0,62% Parigi meno 0,28% Francoforte meno 0,11% positiva anche se di poco invece Londra più 0,10% Piazza Affari la migliore è stata Banco BPM più 3,01% seduta brillante anche per Iveco più 1,77% e Nexi più 1,44% più Caute Team più 0,59% e Deni più 0,57% con il greggio in calo sotto pressione invece Fineco meno 4,26% Cicinelli meno 2,7% Moncler meno 1,97% segno meno anche per Ferrari meno 1,58% Poste meno 1,51% Mediolanum meno 1,11% Intesa meno 1,09% Stellantis meno 1,08% STM meno 0,83% lo spread è in calo a 183 punti base Euro contro dollaro in calo a 109 e 22 è tutto Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro è l'energia di Repower efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda elettricità e gas inclusi Repower l'energia che ti serve Mai senza Monge quanta allegria con i nostri amici a quattro zampe noi di Monge pensiamo a farli stare bene proprio come voi da 60 anni li nutriamo con amore, gusto e qualità Made in Italy Monge Natural Super Premium le crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale e da oggi provate i nuovi Monge Gift gli snack funzionali con tante ricette grain free a basso contenuto calorico Monge il pet food che parla chiaro Stile l'arte di vivere il bello da oltre 20 anni Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy riflettori puntati sulla creatività lo stile la moda il design e l'architettura questa settimana in distribuzione in Italia in mail in diretto e in edicola con il sole 24 ore e in Europa in lingua inglese vuoi essere anche tu protagonista? chiamalo 0423 425411 Stile è un progetto Publiscoop Group la zanzara la zanzara dovrebbe arrivare come dici te per decidere di chiudere questa cazzo di trasmissione di merda e mandare te dritto in galera che sei ai limiti di essere un delinquente Cruciani fino all'undici maggio non devi romper cazzo devi stare zitto hai capito? mettiti una zucchina in culo e stai zitto fino all'undici maggio imbecille muto devi stare coglione coglione infinito lo sai caro Parenzo che questa trasmissione a me piace tantissimo è ovvio che hai creato questo clima mi fa venire l'entusiasmo mi entusiasma questa trasmissione a me piace a me piace tantissimo ti si rivolta contro ti si rivolta contro allora volevo innanzitutto c'è tra noi un personaggio che vorrei quasi ogni giorno ospite di questa trasmissione devo dire la verità adesso senza ironia ma vorrei quasi ogni giorno quasi se no poi a un certo punto ogni giorno no se no poi il pesce puzza come si dice no? come si dice in gergo però quasi ogni giorno perché è un grande intellettuale italiano assolutamente libero e credo uno dei pochi liberali rimasti si chiama Massimiliano Parente già lo conosci e non ti permetto adesso la tua ironia Parente buonasera signor Massimiliano Parente buonasera ciao Giuseppe allora Massimiliano Parente è uno scrittore è uno opinionista opinionista no perché mi sputa in faccia è uno scrittore è uno scrittore italiano che ha detto che ha smetterà anzi ha già smesso di scrivere dopo il suo ultimo romanzo vogliamo ricordare il titolo caro Parente ricordiamo il titolo non perché vuoi farti una marchetta ma insomma diciamolo che è quello vorrei come è che il titolo ricordamelo per favore no volevo essere Fredi Mercoli volevo essere Fredi Mercoli molto bene capolavoro assoluto grazie per averlo scritto io volevo che Parente giudicasse l'intervento di Silbano da Bergamo no richiamatemi Silbano che è caduto richiamatemi Silbano e prima di Silbano da Bergamo volevo chiedere a Parente dimmi dimmi Massimiliano no no perché non sapevo cosa aveva detto Silbano da Bergamo la prima cosa sono due giudizi rapidi di Parente su Salvini e Meloni come li definiresti in una parola tu che sei anche capace di sintesi caro Massimiliano Salvini un idiota come lo definiresti è un food influencer idiota è un food influencer assolutamente non trovo che abbia degli argomenti tanti anzi mi domando come mai io poi tra l'altro mi interesso poco di politica certo però non capito come mai per esempio il PD ha perso molti voti hanno cambiato il leader eccetera Salvini ha perso tre volte tanto i voti e non l'hanno fatto fuori non l'hanno fatto fuori la Meloni come la giudichi come la giudichi un giudizio rapidissimo sulla signora Meloni caro parente ma è come la giudica allora io volevo dire una cosa sono accadute delle cose molto molto gravi cioè in questo momento ma per esempio ci sono delle molte procure sì che hanno retroattivamente retroattivamente sì tolto la genitorialità dei bambini a coppie omosessuali questa cosa qui è molto grave l'hanno fatta retroattivamente e di questa cosa non parla nessuno ma di cosa parlano delle alite di Renzi e di Calenda che chi cazzo se ne fotta di Renzi e Calenda questa cosa qui mi sembra molto più grave sì perché tu sei a favore del fatto che le coppie i figli delle coppie diciamo gay chiamiamole così ma non solo gay siano registrati siano registrati dai comuni mi sembra ma perché ma perché no ma anche quando dicono l'adozione l'adozione è meglio una coppia gay o una coppia etero io dico fatemi vedere la coppia gay fatemi vedere la coppia etero e poi vi dico no no lui sta dicendo che non conta il fatto di essere gay o no no giusto non conta essere gay o no conta che tipo di coppia conta che persone sono non conta se essere gay o essere etero questa è una cosa molto parenziana è una cosa anche molto parenziana parezzo dovresti essere d'accordo con lo scrittore dai con parente mi sembra su questo potete incontrarvi poi barenzo barenzo scusa ma tu ma tu che vita hai io per esempio sono io ho un compagno una compagna una figlia una figlia e la mia figlia è morto ha dieci anni ed è molto più intelligente della figlia di Salvini questo non ci può dire questo non ci può dire non la conosce la figlia io lascerei stare i figli guardi caro scrittore io lascerei stare i figli secondo me lei ha detto una serie di minchiate inclatanti io ho ascoltato in quasi silenzio parenzo io lascerei stare i figli però ti posso assicurare che mia figlia da quando è nata sta sempre con me il mio compagno la mia compagna e la figlia di Salvini no ma non c'entra lasciamo perdere i figli scusami Massimiliano scusami non c'entra niente tu puoi dire che tua figlia sta benissimo insieme a te e alla tua compagna e al tuo compagno perché vivete in tre fate diciamo però non puoi paragonare la tua situazione la situazione di tua figlia a quella di una figlia che non conosciamo non ha senso sappiamo sicuramente che lei suo padre lo vede molto meno no ma non me ne frega niente lo vede quanto lo vede Massimiliano lo vede quanto lo vede lasciamo perdere i figli ha ragione Parenzo su questo la cosa interessante è questa no perché se no mi incazzo perché su questa cosa mi incazzo i figli sono gestiti da ognuno come uno vuole non siamo qui a giudicare i figli di un altro tra l'altro sono persone che io conosco e che stanno benissimo una persona splendida sia la moglie sia l'ex moglie di Salvini sia la figlia di Salvini dunque non rompere i coglioni con questa minchiata se no mi incazzo allora perché non parliamo delle procure che hanno tolto ma questo che c'entra non c'entra nulla la cosa interessante l'idea di fondo è quella l'idea di fondo è quella l'idea di fondo è io sono madre sono cristiana sono cose va benissimo io questo lo contesto io sono sicuro che tua figlia non so se sia figlia di chi figlia di chi tua diretta ce l'hai fatta tu mia ce l'hai fatta tu con chi con la tua compagna con chi se frega con la mia compagna l'ho fatta io con la mia compagna e poi vivete in tre anche con un'altra persona com'è questo rapporto a tre diciamo lo vorresti anche certificare tu questo rapporto a tre sarebbe possibile non me ne feo un cazzo di certificarlo ma io non mi occupo delle cose che interessano me ma per dire anche delle questioni femministe eccetera io mi faccio un discorso di liberalismo non me ne feo un cazzo di no ma voglio dire lui altri no invece lui è così ma altri no ognuno parla i gay parlano per i gay le femministe parlano per i femministe uno deve parlare per l'individuo l'individuo è importante i diritti dell'individuo ma questo sono d'accordo con te sono assolutamente d'accordo con te tu credi nel matrimonio? no io non sono sposato però non sono sposato credo che le coppie gay debbano potersi sposare a loro rischio e pericolo e vi dicendo non credo per esempio come Vladimir Luxuria che vuole essere si vuole sposare in chiesa perché secondo me uno ha una trans che sia poi religiosa è come un ebreo che è nazista cioè nel senso che adesso non esageriamo perché possono esistere anche dei trans che credono a me sembra veramente una follia quello che dici Parenzo ma tu scusami Parenzo tu sei religioso? beh si è ebreo tradizionalista beh si ma tu sai che la religione ogni religione è sessista maschilista ma non lo so ma assolutamente sono un punto di culture antiche ha ragione su questo ma un punto di culture antiche che l'ebraista mette la donna al centro comunque non ho intenzione di parlare adesso con questo signore qui non mi interessa niente questo signore qui sei tu questo signore qui ma non mi interessa ma non chiedo scusa adesso comunque tu aboliresti 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 il matrimonio assolutamente sì non serve un cazzo il matrimonio anche perché a me personalmente non serve perché siamo in tre ma va bene ma chi se frega ma scusa non ho capito ma in tre che cosa prevede la cosa adesso non mi voglio fare i cazzi tuoi ma sono fatti loro no no però avete un vincolo non ho fatti loro tu David Parenzo c'hai fatti tuoi io non ho una privacy non me ne frega un cazzo di me ma nessuno voi vivete in tre nel senso che anche nello stesso letto dormite in tre non ho capito no ognuno ha la propria io dormo sul divano figurati perché io odio dormire nel letto io dormo sul divano ma secondo te è concepibile il fatto che ci sia un'unione a tre certificata cioè il fatto che voi siete in tre è illegale secondo me o qualsiasi unione deve essere basata sull'amore che c'è sulla cosa ma non su due ma non su due ma lei faccia quello che vuole ma chi se ne frega ma non può pretendere che venga regiferato così ma anche non riconosciuto ma chi se ne frega io certificherei gli individui le persone cioè tutti quanti parlano di famiglia gli individui ma perché una donna single un uomo single a questi 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 di utero in affitto perché è una cosa straordinaria adesso stasera non ho il tempo Silvano che cosa vuoi dire signor parente voglio dire che anche gli iscrittori sono culattoni in questo paese questo cosa vuol dire io non c'è da niente anche 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 gli iscrittori sono culattoni non c'è più speranza c'è che se ne so speranza sei idiota che vuol dire questo è un idiota assoluta questo dorme sul divano oh vengo anche io a casa tua tu dormi sul divano e io vado a letto questo è oggettivamente il vostro andate a lavorare su questo andate a lavorare paese di lesbiche di culattoni l'hai letta la mia cosa su un'affitto questo qua ogni tanto paese di lesbiche e culattoni è di ubriachi anche è di uno ubriachi ma signor però ogni tanto ti devi confrontare col paese reale non è che puoi stare sulla tua torre d'avorio di scrittore quello di Silvano è il paese reale io non è che odio i populisti io odio il popolo proprio io chiuderei su questo Massimiliano nei prossimi giorni parleremo di utero in affitto perché mi hai mandato un messaggio fondamentale fermi tutti grazie italiani italiani voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle sette e mezza alle otto lo dica lo dica a voce alta chi sente la zanzara vuole sbellicarsi quando sono al castello di Carisio voglio ridere ridere strade in diretta buonasera a tutti grazie a tutti